Buongiorno a tutti, possiamo accomodarci? Possiamo chiamare il processo. Salvini Matteo è presente, l'Avvocato Giulia Buongiorno è presente. Sì, oggi nomina anche l'Avvocato Colotti. Sì. Francesco Colotti. Glielo facciamo nominare al microfono. Nomino per oggi anche l'Avvocato Francesco Colotti. Molto bene, grazie. Per le parti civili, Proattiva Open Arms. È presente Oscar Camps, illegale rappresentante. Avvocato Arturo Salerni. Presente, eccomi. Acambi Aminat, assente. Avvocato Mario Antonio Angelelli. Lo sostituisco anch'io, Arturo Salerni. Basia Isioma è assente, Avvocato Mario Antonio Angelelli è assente, sostituito come sopra. Ociuco Silvestre è assente, Avvocato Mario Antonio Angelelli è assente, sostituito come sopra. Nige Musa è assente, Avvocato Serena Romano, presente. Al Ali Somar è assente, Avvocato Irene Russo è assente, sostituito dall'Avvocato Serena Romano. Ana Isabel Montesmierre, assente. Assente, Avvocato Gabriele Lipani. Assente, sostituito dall'Avvocato Maria Giulia Fava. Reig Creus Mark è assente, Avvocato Giuseppe Nicoletti. Sì, presente. Anocte Kingsley è assente, Avvocato Gaetano Mario Pasqualino. Presente. Sunday Endurance è assente, Avvocato Gaetano Mario Pasqualino, presente. Osservatorio antidiscriminazioni in Uredin Adnane è assente, Avvocato Gaetano Mario Pasqualino, presente. Arci Sicilia è assente, Avvocato Michele Calantropo è presente. Ah, è presente? È presente il delegato dell'Arci, il dottor Fausto Melluso. Quindi l'Avvocato Michele Calantropo è presente. Associazione Cooperazione Internazionale Sud Sud, assente. Avvocato Giorgio Bisagna. Sussidisco io, Avvocato Sorrentino. Mediterranea Saving Humans, assente. Avvocato Gaetano Fabio Lanfranca. Presente. Associazione Nazionale Giuristi Democratici, assente. Avvocato Armando Sorrentino, assente. Associazione Accoglierete per la tutela dei minori non accompagnati, assente. Avvocato Corrado Giuliano. Sostituito dall'Avvocato Daniele Ciancimino. Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, assente. Avvocato Giovanni Annaloro. Presente. Associazione Cittadinanza Attiva Sicilia, assente. Avvocato Eliana Maccarrone. Assente. Sostituita per Delega Orale dall'Avvocato Ilenia Grotta D'Aurea. Lega Ambiente Nazionale, assente. Avvocato Daniele Ciancimino, è presente. Lega Ambiente Sicilia, assente. Avvocato Daniele Ciancimino, presente. Comune di Barcellona, è assente. Avvocato Mario Antonio Angelelli, assente. Sostituito dall'Avvocato Salerni. Godwin Nicodaro, assente. Avvocato Silvia Calderoni. Sostituisco io, Arturo Salerni. Oniechiuni Fidelis Azzuc, assente. Avvocato Silvia Calderoni, assente. Sostituita come sopra. Emergence Life, assente. Avvocato Silvia Calderoni, assente. Sostituita come sopra. Comune di Palermo, assente. Avvocato Giuseppe Natale, assente. Oria Fom Lorenz, assente. Avvocato Francesco Robba, assente. Sostituito dall'Avvocato Serena Romano. La Ubi Elmedì, alias La Ubi Meid, assente. Avvocato Gabriele Lipani, assente. Avvocato Maria Giulia Fava. Il processo veniva oggi per la discussione della difesa. Giulia, prende la parola l'Avvocato Buongiorno. Giulia, Buongiorno. Signor Presidente, signori del Tribunale, si contesta al Ministro Salvini il reato di sequestro di persona per aver tenuto a bordo di Open Arms i migranti dal 14 al 20 agosto del 2019. Al contempo, si considera legittimo e normale che Open Arms, imbarcazione battente bandiera spagnola, abbia tenuto a bordo gli stessi migranti dal giorno 1 al giorno 14 agosto. Quando era evidente a tutti, persino a Malta, che Open aveva il dovere di andare in Spagna, stato di bandiera, dove avrebbe potuto far sbarcare i migranti nel giro di due giorni. Ricordo sin da ora le parole di Malta nei confronti del capo missione Open Arms. Nonostante gli avvertimenti, avete deciso di bighellonare senza tener conto del fatto che siete stati informati che Malta non sbarcherà i vostri migranti. Avete intenzionalmente continuato a procrastinare per mettere ulteriori pressioni su Malta. Si contesta al Ministro Salvini di avere rifiutato di indicare il posto, cioè un posto sicuro, dimenticando che a due ore dall'ingresso nel mare territoriale italiano, e cioè ore 1 e 30 del giorno 15 agosto, in realtà, come risulta nel diario di bordo, è stato dato un posto esattamente alle 3 e 23, due ore dopo l'ingresso in acque territoriali. Di rifiuti ne abbiamo registrati tanti, però non sono del Ministro Salvini. Io farò un intervento molto documentato e dimostrerò che Open Arms ha avuto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti, ma ha opposto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti. Come anticipavo prima, dall'1 al 14 agosto sceglie di bighellonare anziché andare al suo stato di bandiera. Il 10 agosto rifiuta la disponibilità di Malta di far sbarcare 39 migranti. Ma quello che io documenterò, secondo me su questo forse non ci siamo soffermati abbastanza, ma è tutto documentale, sono le opzioni dal 15 al 20 agosto. Vede, Presidente, depositerò una memoria di 296 pagine perché devo documentare, documentare, che dal 15 al 20 agosto in realtà Open Arms aveva tantissime soluzioni e non soltanto forse quelle di cui si è parlato finora, perché credo sia chiaro al Tribunale che in qualsiasi momento un migrante stava male poteva scendere. C'è qualcosa di più, c'è un varco, c'è un'apertura, c'è una porta sempre aperta che ha creato la guardia costiera. Qual è questa porta aperta? Sono gli unici documenti che troverete allegati alla memoria perché evidentemente non potevo allegare tanti documenti. Ci sono dei documenti dai quali risulta che c'era un varco che definirei diritti umani perché giustamente io ho ascoltato le domande del Tribunale quando è stato chiesto ma a prescindere dalla salute, quindi un gradino più basso della salute, c'era anche attenzione ai diritti umani? Presidente, io documenterò che bastava dichiarare di non adattarsi alla convivenza a bordo per scendere senza controlli. Questo è documentato. Bastava dichiarare soffro di insonni e di stress, non mi adatto, non voglio vivere una situazione di promiscuità e si scendeva. Quindi non una malattia, badate, qualcosa di diverso. E documenteremo anche quello che successe dal giorno 18 agosto. Open riceve l'ordine di andare in Spagna dalle autorità spagnole e rifiuta. Rifiuta prima il porto di Al-Ghesi-Ras perché è troppo distante. A questo punto viene proposto di essere scortata, le viene proposta la scorta di una montovedetta italiana ma lo rifiuta. Le viene proposto un altro porto più vicino Palma di Mallorca e lo rifiuta. Si dirà ma forse è vero che non potevano i migranti affrontare questo nuovo viaggio se non che risulta gli atti che Creus dichiara che in realtà i migranti potevano purché andassero con un'altra barca senza Open. E allora vede Presidente io credo che per inquadrare bene questi fatti dobbiamo uscire dalla logica che è tutto un diritto una cosa è un diritto una cosa è la pretesa credo che esista lo dico veramente esiste un diritto allo sbarco esiste non esiste un diritto a scegliere se farli sbarcare dove farli sbarcare quando farli sbarcare come farli sbarcare e chi fare sbarcare questo è un po' di più io soprattutto quest'estate studiando le carte a un certo punto mi sono fatta una domanda ma perché se c'erano tutte queste opzioni perché c'erano Open non li ha fatti sbarcare perché io credo anche lo dico sempre quando si fa un processo si fa una ringa uno si deve porre tutte le domande ma se c'era questo varco che aveva aperto la guardia costiera bastava dire non mi adatto per scendere se c'era il posto in Spagna ma perché perché non li facevano sbarcare e abbiamo trovato ed è agli atti perché l'abbiamo prodotto la prima udienza un video che dà una risposta e che sarà il filo conduttore di questo mio intervento perché forse ci dà la risposta che io aspettavo che io cercavo è un video in cui alla fine di questa vicenda il 20 agosto si vede un'esplosione di gioia di entusiasmo a bordo della Open e c'è qualcuno che commenta facendo un video questa gioia questa esplosione di felicità beh voi cosa vi immaginate visto che sono delle Open è stata sequestrata sarà felice perché ha riacquistato la libertà chi commenta però ci dice che non erano felici per questo e stan contentos no perché ieri a una terra sino perché Caio è il ministro dell'interior italiano Caio Salvini sono felici non perché sbarcano ma perché è caduto il ministro dell'interno italiano Salvini è caduto cioè il 20 agosto Open è felice non perché si sbarca ma perché Caio Salvini chi è che fa questo commento un giornalista no questo commento è stato fatto dall'odierna parte civile Oscar Camps ed allora documentiamo un po' delle cose che abbiamo detto il primo atto del ministro che riuscì in solitudine a sequestrare i migranti reca tre firme si tratta del divieto di ingresso transito e sosta della nave Open Arms nel mare territoriale italiano del giorno 1 agosto 2019 firmato da Salvini Trento e Toninelli naturalmente tre firme si contesta solo a Salvini e si contesta sostanzialmente di essersi inventato la sussistenza di elementi che giustificavano questo divieto perché in realtà si dice beh Open Arms ha sempre rispettato tutte le norme che sono previste per i salvataggi non ci poteva essere un sospetto di attività volta al trasferimento illegale di migranti in Italia come si attesta in questo divieto si sostiene cioè che Open Arms avrebbe salvato i migranti in particolare adesso parleremo del primo evento imbattendosi del tutto casualmente nel barcone e non ci sarebbe assolutamente stato un accordo un appuntamento con qualcuno che portava questi migranti perché perché le uniche informazioni che aveva ricevuto Open Arms erano state ricevute pochi minuti prima da Alarm Phone Alarm Phone è si definisce se voi vedete sul sito un contatto di emergenza in supporto alle operazioni di salvataggio sostanzialmente è un'associazione che segnala quando deve intervenire qualche ONG o altre navi in zona quindi c'è un ONG in zona e viene segnalato un pericolo se non che orari alla mano risulta che è assolutamente impossibile che Open abbia ricevuto notizie da Alarm Phone per il semplice fatto che si dirige verso il barcone molte ore prima perché la mail di Alarm Phone è delle 15.30 e invece risulta che Open Arms avesse ricevuto precise informazioni prima e allora chi ha avvisato Open? Open Arms si è attaccata a Lampedusa dichiara di muoversi foglio 178 diario di bordo il 29 luglio ha come destinazione Lampedusa ma succede qualcosa succede sicuramente qualcosa perché viene cancellata la parola Lampedusa e si cambia destinazione si dirà vabbè può essere benissimo che è successo quello che ha detto Oscar Camps è nata la nipotina eccetera però la cosa strana è che si cambia destinazione e inizia un pendolamento nord-sud sud-nord nord-sud sud-nord perché pendolava? si può pensare come qualcuno ha sostenuto che nord-sud sud-nord nord-sud sud-nord sia una rotta per intercettuare casualmente navi in difficoltà? Assolutamente no perché è noto che la rotta dei barconi con migranti è da sud a nord il che significa che fare sud-nord nord-sud nord-sud sud-nord significa viaggiare in parallelo alla rotta dei migranti con ridottissime possibilità di intercetto faccio presente si ricava dal diario di bordo che il radar di Open aveva una portata estremamente limitata 2-3 massimo 4 miglia quindi è chiaramente un pendolamento non per intercettare ma un pendolamento in attesa ma la domanda è in attesa di che alle ore 8 si registra una costata cioè un cambio repentino di destinazione e alle 8.30 un cambio di velocità ci dice la Montes in un altro contesto che quando si cambia velocità è rotta è perché si va da qualche parte dove sta andando Open visto che non è possibile che alle 8 del mattino abbia notizie che le vengono date alle 15.30 eppure si nota che da quel momento in poi Open ha un impegno ha un impegno urgentissimo un impegno che non può essere rinviato e cosa succede se una persona ha un impegno? Se una persona ha un impegno non si può fermare a fare altro ed infatti alle 9.34 dal diario di bordo risulta che Open riceve la chiamata dal capitano di Alan Kurdi che chiede aiuto Alan Kurdi chiede di trasferire dei migranti perché evidentemente aveva delle difficoltà le ONG hanno come finalità di aiutare come mai non è stata aiutata Alan Kurdi se in quel momento ancora Open Arms era senza migranti a bordo e non stava facendo assolutamente nulla perché sono le 9.34 e perché la segnalazione del barcone secondo i dati ufficiali arriva soltanto alle 15.30 perché non ha preso i migranti di Alan Kurdi naturalmente è stato chiesto io l'ho chiesto a Oscar Camps naturalmente un armatore esperto che conosce bene le regole del mare avvocato buongiorno volevo sapere una cosa lo leggo nel diario di bordo il primo agosto voi ricevete una chiamata ad Alan Kurdi ancora non avevate nessuno a bordo e si legge nel diario di bordo che non potete realizzare il transfert perché sussistono non sussistono le condizioni legali per un accordo tra i due capitani la domanda è ma visto che vi chiedevano aiuto e non avevate nessuno a bordo come mai non avete potuto aiutare Alan Kurdi risposta ho capito che la richiesta era di pannolini e cibo naturalmente io ho fatto presente che sapeva perfettamente perché risulta nel diario di bordo che la richiesta era di aiuto poi quando è stato negato l'aiuto hanno chiesto anche pannolini e cibo io ho letto il diario di bordo e allora a questo punto ha cambiato versione Oscar Camps cambia versione e dice ma non si può fare il transfert senza l'autorizzazione della guardia costiera gli faccio presente che però hanno sempre sostenuto che se c'è pericolo imminente si può fare e allora a questo punto gli chiedo ma scusi se c'era questo pericolo imminente imminente si poteva fare o no questo salvataggio beh sì si poteva fare e allora ma perché non avete salvato le persone a bordo di Alan Kurdi ritorno risposta avevano bisogno di pannolini cioè torniamo alla prima risposta allora Oscar Camps è inesperto e scambia la richiesta di soccorso con una richiesta di pannolini oppure in quel momento avevano già un impegno e poi abbiamo la seconda accostata la seconda accostata è particolarmente misteriosa perché perché avviene alle 12 quando Open non poteva avere avvistato il barcone perché era 26 miglia e vi ho detto che il radar arrivava massimo a 4 miglia alle 12 non poteva avere avuto indicazioni da Alan Fon che cosa cambia la destinazione non l'avremmo mai saputo ma abbiamo appreso soltanto in udienza soltanto in udienza il 13 5 2022 da parte di Mancini direttore del servizio immigrazioni del ministero dell'interno che in realtà il primo agosto un sommergibile venuti era impegnato nell'operazione mare sicuro e insospettito proprio dal cambio di rotta di Open delle ore 8 e dell'innesto della velocità massima delle 8 e 29 ha cominciato a video registrare i movimenti di Open Arms il sommergibile alle ore 12 ha registrato una comunicazione audio sul canale VHF6 tra due soggetti in lingua spagnola attenzione agli orari sono le 12 Open non deve sapere proprio nulla del barcone perché è distante e perché viene avvisata alle 15 e 30 in questa conversazione si parla di un peschereccio con palangari che sono le caratteristiche esatte del barcone che sarà successivamente avvistato ma alle 12 non si potevano dare queste informazioni perché Alan Forn ancora non sapeva nulla secondo la versione che ci è stata fornita dalla parte civile come mai qualcuno alle 12 parla già del barcone il pubblico ministero ha liquidato il tema dicendo beh ma è irrilevante perché siccome le due persone che parlano magari erano a bordo di Open Arms è irrilevante no forse allora non ci siamo capiti qual è il punto e qual è la gravità stiamo parlando di un orario in cui nessuno doveva sapere della barca con i palangari sfuggia l'accusa che uno o due soggetti a bordo sarà stato Carlitos che era a bordo sì ma Carlitos alle 12 perché doveva sapere che c'era un barcone con palangari lontanissimo da andare a prendere non lo poteva sapere a mezzogiorno dunque cambia direzione che è una direzione assolutamente decisiva faccio presente che noi abbiamo appreso di questa comunicazione esclusivamente in aula davanti a questo tribunale nel senato nel tribunale per i reati ministeriali nel parlamento hanno mai saputo mai saputo che alle ore 12 si sapeva già di questa imbarcazione con palangari che sarebbe stata salvata ore dopo a che ora avviene l'avvistamento del barcone come dicevamo prima il radar ha una distanza limitata di avvistamento per cui viene avvistata alle 15 e 10 e viene avvistata Sibadi dopo una serie di spezzate verso est quindi è chiarissimo che non trova il barcone per caso fortuito ma perché disponeva open di un punto nave su cui ha potuto convergere il bersaglio è stato raggiunto con informazioni precise mentre in aula c'è stato detto che le informazioni sono arrivate da Alan Fon vero che esiste una mail di Alarm Fon vero che in questa mail si parla del barcone ma attenzione la mail giunge alle ore 15 e 30 20 minuti dopo dell'avvistamento che era alle 15 e 10 molte ore dopo della conversazione che fa cambiare rotte rotta moltissime ore dopo dal cambio direzione e velocità delle 8 del mattino ma vi è di più vi è di più perché in questo c'è stata pure forse un pizzico di sfortuna Alarm quando invia la mail si sbaglia perché indica come posizione Alarm cos'è che deve fare deve indicare alle ONG o altre navi la posizione in cui recuperare eventuali navi in difficoltà lo deve ripeto indicare se la nave è vicina cosa succede che sbaglia e indica una posizione in cui si trovava il barcone con i migranti due ore prima quindi una posizione superata ora se Open veramente avesse seguito le indicazioni di Alarm avremmo visto sul diario di bordo a questo punto che cosa che ovviamente Open avrebbe dovuto fare le manovre indicate per tornare in quella posizione perché se io ho notizie solo da Alarm Alarm mi dice che in una posizione di due ore prima avrei dovuto cambiare rotta e invece no Open ignora totalmente le indicazioni di Alarm e non fa nessun cambio quindi avete agli atti la prova che alle ore 15.30 viene indicata una posizione superata superata e che Open ignora le indicazioni di Alarm tant'è vero che Alarm a quel punto un quarto d'ora dopo cambia tutto ricambia mail e finalmente dà le indicazioni quando già era tutto finito tutto finito quindi signor presidente io credo che gli orari in questo processo hanno un significato fondamentale perché sappiamo benissimo che una cosa è soccorrere una cosa è prendere appuntamenti una cosa è imbattersi altre cose è concordare una consegna allora chi ha dato puntuali informazioni a Open prima di Alarm vede signor presidente il soccorso in mare non è un'operazione fai da te che ognuno si inventa come fare ci sono delle fasi che sono previste che trovano la loro base giuridica nella convenzione di Hamburgo del 1979 e dal piano SAR marittimo nazionale e ci sono tre fasi tre fasi che si devono rispettare prima di prendere a bordo delle persone che sono in mare bisogna verificare se e in quale fase era Open quando incontra il barcone anzi in che fase era il barcone la prima fase che è prevista da queste regole è la fase incerfa incerfa vuol dire fase di incertezza situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona di una nave o di un altro mezzo bene se c'è una barca in condizione di incerfa non si può fare nulla poi c'è la situazione di Alerfa Alerfa è quella situazione nella quale si può temere per la sicurezza di una persona o di una nave perché ad esempio è stata ricevuta informazione che l'efficienza operativa del mezzo è menomata ma l'Aerfa è una situazione che non fa ritenere probabile e imminente il pericolo e anche qui si dice Alerfa implica che bisogna attendere non si può prendere a bordo nessuno se la situazione è di Alerfa e allora quando è che si può prendere a bordo qualcuno quando la situazione è destresfa che noi abbiamo chiamato qui distress cioè destresfa quando si ha ragione di ritenere che ci sia una minaccia di un pericolo grave e imminente un esempio è stata ricevuta notizia che la barca in qualche modo si sta riempendo d'acqua beh lì c'è poco da fare lì si deve intervenire e infatti e infatti cosa dichiara Open Arms quando decide di procedere al trasbordo dei migranti a bordo del barcone acqua sta entrando acqua c'è una fessura c'è un buco e ci sono i motori bloccati quindi stiamo attenti questo è di stress non c'è da attendere non possiamo fare niente acqua 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 c'è tanta acqua se non che in quella zona era un po' questo riferimento che solo i palermitani possono comprendere era un po' come piazza Croci in orario di punta cioè non c'era solo Open c'era il sommergibile Venuti la motovedetta Fezzan un velivolo e una Formed Merlin 3 che sorvolava quel tratto di mare quindi in realtà quello che succede è monitorato da una serie di mezzi che sono lì e siamo in grado di capire che cosa effettivamente succedeva in particolare diversamente da quanto sostenuto da Open il velivolo Merlin 3 riporta una situazione che avrebbe imposto l'attesa il velivolo di una Formed effettua un costante monitoraggio e riprese fotografiche dell'imparcazione alle ore 9.58 11.47 15.14 17.8 quindi riusciamo a capire bene la situazione e risulta un'indicazione di buona galleggiabilità e addirittura badate una rotta nord e una velocità di percorrenza sostenuta dai 4 agli 8 nodi fino alle 15.14 cosa vuol dire velocità fino alle 15.14 vi ricordate gli orari si dice motori in avaria alle 15.10 vedo la barca piena d'acqua con motori in avaria alle 15.14 ancora andava 8 nodi la presunta avaria è smentita e la barca non è fuori controllo non è fuori controllo perché basta guardare il video e c'ha questa barca ha una capacità di governo e propulsione perfetta c'è anche qualcuno si vede benissimo che manovra verso poppa e questo è sicuro una persona esperta ho visto questo filmato un 23 volte e soprattutto ci sono delle diapositive le diapositive ci dimostrano che il barcone non era fuori controllo e ci sono delle immagini subacquee in cui risultano integri gli assiemi piede ed elica dei due motori fuori bordo non c'era nulla di rotto ma si dirà magari il motore non era rotto ma se c'è un buco vedete il buco io ho visto tutta la giurisprudenza in materia di pericolo imminente se c'è una cosa che garantisce il distress e il buco perché è ovvio se c'è un buco immaginate ognuno di noi magari chi non ha nave si immagina un canottino il canottino con un buco è in distress cioè c'è poco da discutere e quindi voi lo vedrete quasi sempre quasi sempre viene dichiarato il buco quasi sempre viene dichiarata la fessura c'era o no questo squarcio anche qui udienze udienze squarcio grande tanta acqua poca acqua alla fine fortunatamente perché poi l'onestà intellettuale e io l'ho visto ormai sempre l'onestà intellettuale alla fine emerge a prescindere dalle parti persino il consulente dell'accusa è venuto qui e ha detto era una chiazza di colore diverso non c'era buco non c'era acqua non c'era nulla motori che andavano alla massima velocità imbarcazione integra non c'era di stress infine giusto per completare a bordo dell'imbarcazione era disponibile un telefono satellitare Turaia non so se conoscete Turaia i Turaia sono dei telefoni dei dispositivi che hanno il GPS integrato con il quale è possibile determinare le coordinate geografiche di posizione il calcolo della distanza e della direzione e memorizzare la posizione inviandola via sms ed allora in sintesi abbiamo un'imbarcazione che nessuno può dire che è inidonea perché era idonea a raggiungere quel tipo di obiettivo perché l'obiettivo era andare lì andare in quella zona dall'altra parte abbiamo che alle otto e mezza cambia direzione open e alle 12 riceve notizie alla luce di queste informazioni credo che se stiamo attenti agli orari e alle mail risulta evidente che non c'è un incontro occasionale che non c'è assolutamente un distress ma che c'è un appuntamento è stato anche sostenuto che open tentò in vano di avvisare la Libia di quel salvataggio e che la prova sarebbe che nel diario di bordo ci sta scritto abbiamo tentato eccetera se non che il sommergibile che era a breve distanza molto vicino e che ha ricevuto una serie di messaggi non capta la ricezione del messaggio di soccorso che open sostiene di avere mandato mi sembra evidente alla luce di queste prime considerazioni che quando il provvedimento di divieto sosteneva che c'era un'intenzione di porre in essere un'attività volta al trasferimento illegale dei migranti quel provvedimento aveva colto nel segno c'è un capitolo nella memoria che qui sarebbe troppo lungo illustrare nel quale spieghiamo il sistema di monitoraggio in tempo reale che c'era al ministero dell'interno e che ha permesso di ricevere una serie di informazioni l'una dopo l'altra sia dal velivolo di cui parlavo prima quindi quelle fotografie in rapida successione sia le indicazioni relative alla rotta e quando in quel provvedimento si parla di un modus procedendi già esistente si fa riferimento al fatto che non era la prima volta che le ONG ponevano in essere questo tipo di condotta per tutti i dettagli sul provvedimento rinvio al capitolo della memoria perché io devo invece seguire il percorso di Open sul secondo evento purtroppo non ho le stesse informazioni che ho sul primo perché cioè venuti una se ne trova non c'erano tante venuti sparse e quindi non posso dare delle indicazioni precise io non parlo se non ho indicazioni precise possiamo soltanto dire che tanto il primo quanto il secondo evento sono stati effettuati in autonomia in zona sarlibica e ovviamente in autonomia non significa hai vivo sei bravo hai fatto le cose in autonomia fare i salvataggi i trasbordi in autonomia è assolutamente vietato perché le linee guida sull'applicazione della convenzione SAR prescrivono al comandante di prendere contatto con l'autorità SAR competente per territorio e di rispettare le richieste del governo responsabile e in questo caso avrebbe dovuto farlo anche perché non c'era una situazione di distress l'obiezione che ci è stata fatta è che la Libia in realtà avrebbe potuto massacrare i migranti io vorrei fare presente che esiste anche la legge cioè tra le varie cose di cui tener conto che esistono le convenzioni che esistono le conclusioni della riunione del Consiglio Europeo tenutasi a Bruxelles in data 28 giugno 2018 dove è stato annotato che tutte le navi operanti nel Mediterraneo sono tenute a rispettare le leggi applicabili e a non interferire con le operazioni della guardia costiera libica può piacere o non piacere ma questo esiste il 2 agosto c'è questo secondo intervento ma siamo al 2 agosto presidente dopo che fa questo trasbordo a questo punto a tanti migranti a bordo batte bandiera spagnola perché il 2 agosto open non va in Spagna è vicino anche alla Tunisia e qui inizia un altro pendolamento avanti e indietro avanti e indietro avanti e indietro condizioni meteo ottime i porti erano a distanza di due giorni due giorni giorno 3 cosa fa open avanti e indietro avanti e indietro avanti e indietro giorno 4 cosa fa open avanti e indietro avanti e indietro è così il 5 il 6 il 7 l'8 e il 9 poi c'è il trasbordo il cosiddetto terzo evento faccio presente che io vi ho letto all'inizio del mio intervento che anche Malta si era resa conto di questa condotta di open e ci sono tante mail che per ragioni di tempo naturalmente non leggo un'altra che credo sia eloquente è quella in cui si dice cara signora Montes in riferimento alla sua richiesta deve prendere nota della nostra risposta di ieri tuttavia ripete il termine usato nell'altra mail lei ha scelto di continuare a bigollonare senza intraprendere azioni immediate per evitare tutto questo e il tenente in servizio presso la stazione navale della guardia di finanza di palermo anedda dice che è chiaro che i primi due interventi sono stati fatti sottrendosi al coordinamento dello stato competente in quell'area e che si stava aspettando l'esito di un ricorso legittimo al provvedimento interministeriale ma in questa condotta di attesa io ravvedo ho ravvisato ho scritto che ravvedevo un'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché comunque in maniera ostinata l'imbarcazione si era messa in una condizione tale che o era Lampedusa o non poteva essere nessun altro posto ostinata bighellonando o bighellonando intanto Open incrocia tantissimi tantissimi mezzi che le chiedono hai bisogno di qualcosa 736 sorvolata da un aereo militare una petroliera appartenente all'operazione una Formed Sofia riceve una chiamata da Moonbird aereo di ricognizione Sea-Watch altro aereo spagnolo altri aerei militari passa Ocean Viking e dice hai bisogno di qualcosa? non hanno bisogno di nulla sono in attesa c'è stato detto che bighellonava perché l'Italia non era stata chiara quando aveva notificato il divieto di transito e sosta ora a parte che la parola divieto per carità non so in spagnolo come fa però se c'è scritto divieto più o meno si capisce che è qualcosa che non devi fare però si continua a sostenere e l'hanno fatto un po' tutti i test i testi Mark Ray Greus Anna Belmontes Oscar Camps Riccardo Gatti hanno tutti detto ma noi in quella fase bighellonavamo cioè stavamo lì perché eravamo in attesa di una risposta dall'Italia certo potevamo andare in Spagna ma perché andare in Spagna se l'Italia non era stata chiara quindi praticamente avete sbagliato non dovevate scrivere divieto serviva qualcosa di più eclatante fatto sta che è assolutamente non corrispondente a quello che risulta agli atti quanto dichiarato perché in realtà era chiarissima a Open la volontà dell'Italia di porre un divieto perché risulta in tutti gli scritti difensivi degli avvocati che sono ovviamente scritti della Open Arms in cui si continua a dire che c'è un grave pregiudizio perché non viene autorizzato lo sbarco dall'Italia e allora se i tuoi avvocati dicono che non viene autorizzato lo sbarco dell'Italia hai capito o no che non era autorizzato lo sbarco dall'Italia quindi non ci si venga a dire che non era chiaro quel divieto e passiamo al terzo evento come dicevo Presidente io sul primo ho tante informazioni sul secondo il terzo di meno però qualcosa sul terzo ho solito modus procedendi questa frase è quella che poi c'è nel divieto è la notte tra il 9 e il 10 agosto però tecnicamente dobbiamo parlare del 10 agosto perché ovviamente era passata la mezzanotte Open stiamo parlando di un evento che avviene in acque territoriali maltesi dichiara che c'è una imbarcazione come al solito in distress quindi pericolo imminente minaccia non si può aspettare e viene segnalato anche nel diario di bordo però in realtà si parla di distress ma ecco 3 allora vabbè il tribunale lo sa ecco 3 e ecco 1 sono le due imbarcazioni che sono di servizio rispetto all'open arms che sono quelle che vengono utilizzate per andare presso i barconi a prendere i migranti quindi ecco 3 comunica che la barca in legno con approssimativamente 40 persone è poco inclinata e apparentemente in buono stato e comunica anche che non esiste traccia di perdita d'acqua e si dice a Malta c'è la comunicazione abbiamo trovato un'imbarcazione in queste condizioni ovviamente Malta visto che non c'è acqua che entra è apparentemente in buono stato dice non devi procedere al salvataggio perché non è un distress però puoi dare se vuoi intanto i giubbotti di salvataggio io prego il tribunale di guardare cosa succede nei successivi dieci minuti improvvisamente questa era un'imbarcazione che abbiamo detto che non imbarcava acqua era perfetta improvvisamente all'1.05 la barca di legno sta imbarcando acqua c'è una falla e qualche minuto dopo anzi ci sono tantissime forature cioè la stessa barca che prima non era in distress Malta dice guarda che non è in distress improvvisamente viene dichiarato che praticamente è un colabrodo di fronte a queste comunicazioni Malta ovviamente riconosce la sussistenza di un pericolo e però fa presente che possono procedere al salvataggio e poi Malta provvederà a fare sbarcare presso Malta presso una moto vodvedetta maltese i 39 migranti presi a bordo in quella occasione c'è questa comunicazione Open avrebbe potuto dire no guarda che se io ora li prendo me li voglio tenere tutti e non dice nulla nulla se non che arriva una comunicazione in cui risulta che ecco tre che era la piccola imbarcazione vicino al barcone dichiara ma non c'è proprio acqua dentro questa barca allora visto che Malta aveva autorizzato il salvataggio perché era stato detto che c'era acqua e viene comunicato che l'acqua non c'è vuoi avvisare o non vuoi avvisare Malta? Malta non è stata avvisata e quindi viene effettuato il salvataggio viene concluso e ovviamente come d'accordi la moto vedetta maltese si dirige verso Open Arms perché si dirige verso Open Arms? perché c'era l'accordo che i 39 sarebbero dovuti essere trasbordati sulla moto vedetta maltese a questo punto il diario di bordo segnala ore 3 e 26 c'è una mail si segnala che vanno verso nord che devono spostarsi Open non aspetta la moto vedetta maltese e la moto vedetta maltese cerca disperatamente Open e chiede la posizione per effettuare lo sbarco e Open continua ad allontanarsi leggendo il diario sembra una sorta di inseguimento Malta chiede la posizione Open non la dà poi va più a destra più a sinistra più a su a un certo punto Open dichiara esplicitamente che non intende consegnare i 39 migranti nel diario di bordo c'è una lunghissima spiegazione c'è un avvocato che parla con loro viene annotato che i primi migranti si sarebbero potuti arrabbiare perché perché avrebbero detto noi siamo da più tempo a bordo se tu fai sbarcare gli ultimi 39 tutto questo è ingiusto se non che anche se in quest'aula devo dire non si sono visti abbiamo dei testimoni che ci riferiscono quello che volevano i migranti in particolare la Liguori ci riferisce che i migranti dichiararono che volevano andare a Malta e quando gli è stato chiesto ma il comandante come giustificava che non li faceva sbarcare la risposta è stata hanno detto che per cercare di calmare vista la situazione perché alcuni volevano andare a Malta è stato detto che però le procedure per quanto riguarda la protezione erano più veloci in Italia quindi hanno 39 migranti non li danno a Malta dicono che si sarebbe creato una sorta di insurrezione viene fuori che i migranti sarebbero scesi e forse magari una cosa di cui lo Stato italiano dovrebbe essere fiero cioè siamo veloci nelle procedure in realtà è un argomento utilizzato per non farli sbarcare siamo un altro argomento Presidente quando lei ha una situazione di distress me lo segnala e io interrompo a questo punto passiamo a un altro argomento ci sono parti signori del tribunale che comprenderete che non sono trattate in maniera completa e per questo ovviamente rinvio alla memoria abbiamo seguito il percorso di Open Arms in questi tre eventi per documentare la legittimità del divieto emesso dal Ministro Salvini insieme a Trenta e a Toninelli ma soprattutto abbiamo documentato il viaggio della Open Arms perché a mio avviso per capire bene quello che succede dopo bisogna capire cosa voleva Open Arms è questa la domanda che ci dobbiamo fare rispetto a questi tre eventi è impossibile ovviamente ipotizzare una competenza dell'Italia perché è una nave spagnola e in nessun momento l'Italia coordinava gli eventi alla fine del mio intervento ci sarà un intervento estremamente breve ma puntuale dell'Avvocato Colotti sulla giurisdizione quindi salto questo capitolo quello che mi interessa invece sottolineare che poco fa ho richiamato la deposizione del Teste Anedda il Teste Anedda aveva detto Open Arms Bighellona perché era in attesa del Tar ed era un profeta perché effettivamente il 14 agosto il Tar emette un provvedimento che permette a Open di entrare in acque territoriali però su questo provvedimento dobbiamo essere chiari una volta per tutte ho sentito dire che è un provvedimento che annulla il divieto di transito che di fatto boccia il provvedimento che era stato emesso allora era un provvedimento inaudito altera parte è impossibile certo leggendo se uno può inventare si può inventare è impossibile affermare che a seguito della decisione del Tar fosse stato annullato o sospeso integralmente il provvedimento di divieto questo è impossibile è impossibile perché si limita si limita quel provvedimento a consentire l'ingresso in acque territoriali testuale al fine di garantire assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli e con un finale direi a sorpresa come del resto sembra già sia avvenuto quindi il Tar non dice è totalmente sbagliato annullato dice per adesso in attesa di discutere in attesa di discutere devi solo dare assistenza devi solo dare assistenza dico subito che in questa sede non entro nel merito del provvedimento c'era un errore in quel provvedimento perché in quel provvedimento si sostiene che lo stesso divieto prevedeva che c'era una situazione di distress e dunque il passaggio dell'open non si poteva dichiarare non inoffensivo in realtà la parola di stress prego leggere la deposizione di Liguori era stata annotata in base a quanto dichiarato da open però dovrei dedicare un'ora al Tar non credo nessuno ne sarebbe particolarmente felice quindi rinvio alla memoria sul Tar però mi preme mi preme mi preme dire che quello che c'è scritto è che l'Italia deve solo fornire assistenza non si parla di un obbligo di sbarco si parla di assistere i bisognosi riconoscendo all'Italia che lo ha già fatto e andiamo un po' di orari c'è pure un errore a mio avviso nel capo di imputazione allora intanto questo secondo me è importante per capire gli orari tenete conto i rapporti del velivolo e del sommergibile sono infuso Zulu Zulu quindi GMT mentre Open Arms per le trascrizioni nel diario di navigazione impiega il fuso Bravo il fuso Bravo è un altro fuso perché è un fuso di due ore gli orari dei messaggi di Alarm Phone sono in fuso Charlie Charlie più tre ore quindi quando si ricostruiscono gli eventi tenete conto di Charlie Bravo e Zulu vediamo un po' di orari intanto se si contesta al ministro Salvini il reato i reati i reati nel momento in cui a partire dal momento in cui entrano nelle acque territoriali italiane c'è poco da fare non è 14 perché il giorno è 15 è l'1.30 del 15 ed è una mail che sicuramente ha quell'orario ho controllato tutti i fusi quindi c'è poco da discutere non è 14 ma è 15 l'ora locale italiana è fuso bravo fuso bravo alle ore 2.22 fuso bravo IMRCC comunica che non porrà di niego al ridosso alle ore 2.41 fuso bravo IMRCC comunica ad Open il nulla osta al ridosso ecco qui i due passaggi ore 3.20 fuso bravo la nave chiede l'ormeggio e arriva il POS ore 3.23 le autorità portuali di Lampedusa danno il POS in ormeggio nel diario di bordo c'è scritto POS in ormeggio chi scrive il diario che non è ovviamente l'imputato ma è una parte civile scrive POS due ore dopo l'ingresso ora nonostante l'Italia non avesse alcuna giurisdizione e nonostante i nutriti elementi dai quali emergevano sospetti di attività preordinata al sistematico trasferimento illegale di migranti ovviamente si ottempra il provvedimento del TAR facendo entrare la nave continuando a prestare assistenza e da questo momento Open è gestita secondo me non come le altre navi ONG ma molto meglio ma tanto meglio tanto consideri Presidente che a volte quando si fanno i processi è come se si mettesse da parte il quadro in cui avvengono certi eventi io vi voglio ricordare che era un momento politico particolare perché era la caduta del governo Conte e a Lampedusa ora non so quanti comunque c'erano tantissimi giornalisti c'erano una serie di politici c'era grande attenzione a quello che stava avvenendo perché era estremamente collegato con la crisi di governo e quindi Open secondo me e ora vedremo poi i documenti proprio è stata ha ricevuto un tipo di non dico di trattamento ma di attenzione superiore ad altre navi attenzione non solo alla salute Presidente io ci tengo a dirlo attenzione ai diritti tenendo conto naturalmente e si dice anche in questa sede della linea politica del governo Conte 1 che poi giusto per completezza diciamo che fu seguita anche dal governo Conte 2 la linea politica si vince dal contratto di governo che ha legato gli atti da numerosi documenti allegati al fascicolo abbiamo allegato un documento che secondo me è un po' riassuntivo perché ovviamente anche per voi diventa complicato leggere troppi atti io consiglierei per vedere qual era la linea politica in particolare di leggere un documento al quale tra l'altro tiene tantissimo il Presidente Conte che abbiamo prodotto noi a Catania l'ha prodotto lui che è il documento che gli consegnò al Consiglio europeo nel 2018 in cui si diceva l'obiettivo è superare il criterio del Paese di primo arrivo chi sbarca in Italia sbarca in Europa riaffermare responsabilità solidarietà come binomio non come dualismo responsabilità comune tra stati membri su un naufraghi in mare non può ricadere tutto sui Paesi di primo arrivo bisogna scindere porto sicuro di sbarco è stato competente a esaminare richieste di asilo l'obbligo di salvataggio non può diventare obbligo di processare domande per conto di tutti perché superare Dublino perché ovviamente in base al regolamento di Dublino come a tutti noto i migranti che arrivano nel territorio italiano cosiddetto stato di primo ingresso di fatto e di diritto sono considerati un problema esclusivamente dell'Italia superare Dublino perché questo forse va chiarito non significa che allora quel governo disse c'è Dublino io faccio finta che non c'è la regola e l'accordo e faccio altro perché altrimenti significherebbe anche violare un accordo se tu fai oltre quello che è previsto su questo vorrei segnalare che esiste proprio nell'ambito dell'accordo di Dublino un gruppetto di norme che sono le cosiddette deroghe che sono molto importanti perché è previsto l'articolo 17 paragrafo 2 di questo regolamento un articolo che parla di clausole discrezionali e cioè a prescindere da quello che prevede l'accordo di Berlino uno stato membro può farsi carico dei migranti richiedenti asilo su richiesta di un altro membro cosa vuol dire questo che anche se io sono stato di primo arrivo mi metto d'accordo con Francia Spagna e Ungheria e diventano obbligati questi stati Conte ha rivendicato il suo impegno a partire dal consiglio europeo ha parlato di un disinteresse generale da parte dell'Europa ha parlato di un braccio di ferro lunghissimo in cui lui addirittura fu costretto a bloccare i lavori perché molti paesi si disinteressavano totalmente del tema e dunque lui dice io ho capito che bisognava dare una scossa e sono riuscito a dare quella scossa perché ho fatto inserire nel consiglio europeo del 28 giugno dei punti che sono fondamentali in particolare in questo consiglio d'Europa è stato inserito l'impegno di collaborazione dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia e un nuovo approccio allo sbarco chi viene salvato in operazioni di ricerca e soccorso deve condividere con gli altri stati le responsabilità l'impegno è quello della presa in carica di coloro che vengono salvati nel territorio dell'Unione Europea da parte di tutti gli stati membri con uno sforzo condiviso quindi sulla scorta del riconoscimento di queste istanze nazionali la gestione degli sbarchi diventa condivisa e c'è un nuovo schema operativo pur tenendo presente la tutela della salute e diritti dei migranti il nuovo schema operativo diventa quando arrivano dei migranti prima si redistribuisce e poi si fanno sbarcare i migranti perché 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 prima redistribuire poi sbarcare ci sono gli hot spot perché non farli sbarcare mandarli in gli hot spot e poi redistribuire ce lo spiega il test Moavero milanesi all'epoca di fatti ministro degli esteri 17 maggio 2024 la linea generale del governo Conte era uno cerchiamo di favorire una modifica del regolamento di Dublino nel caso dei flussi mediterranei o centrale perché finisce di diventare tutto complesso e finisce per diventare complesso quello degli oneri conseguenti in capo all'Italia la linea subordinata era nel momento in cui si trova un accordo di redistribuzione cerchiamo per quanto possibile di ottenere la redistribuzione prima dello sbarco non dopo lo sbarco prima dello sbarco perché soltanto se lo facciamo prima il regolamento di Dublino ci permette di evitare gli oneri che sono sempre in capo all'Italia ci permette di evitare di trattare di esaminare le domande di protezione questo non lo dice Salvini lo dice Moavero quali sono gli oneri ospitare i richiedenti per mesi o a volte per anni in pendenza del procedimento amministrativo gestire i rimpatri ma questi oneri se ne aggiungono altri è previsto infatti in alcuni casi che il richiedente deve essere trattenuto in presenza di un rischio di fuga che potrebbe compromettere le determinazioni degli elementi su cui si basa la domanda di protezione quando vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico cosa vuol dire questo si tentava di superare Dublino in attesa di superare Dublino si riesce a ottenere che il consiglio dice ok mettetevi d'accordo tra voi ma è del tutto inutile fare una ridistribuzione se intanto si fanno scendere negli hot spot perché scattano gli oneri quindi si devono evitare gli oneri questa è la linea questa è la linea politica quindi non è che ora ci possiamo in qualche modo immaginare non per ridimensionare i poteri del ministro degli interni ma non è che era una linea decisa a Salvini prima a ridistribuire poi a sbarcare era la linea di quel governo e che fosse condivisa risulta da ogni atto che c'è in questo processo perché noi abbiamo prodotto una serie di atti del processo di Catania sarebbe lungo citarli tutti cito a titolo d'esempio il caso di Ciotti perché la richiesta di POS è del 17 agosto 2018 la concessione del POS è del 26 agosto 2018 quindi il tempo di ritardo sarebbe anche superiore a quello contestato attualmente in questo procedimento ma quello che mi interessa è che durante questo caso di Ciotti abbiamo prodotto questo documento c'è una una riunione a Bruxelles e c'è un resoconto di questa riunione in pieno sequestro perché era il caso di Ciotti quindi erano ancora a bordo il 24 agosto 2018 e in questo verbale risulta che l'ambasciatore Maurizio Massari che scrive anche per conto di Vitolo Vitolo tenete conto che è il consigliere dell'ufficio diplomatico della presidenza di consiglio di Conte quindi Massari è un uomo di Conte scrivono alla Belloni a Benassi a Guariglia e Baiano eccetera abbiamo aggiunto che la redistribuzione non può comprendere unicamente coloro che hanno diritto alla protezione internazionale ma debba avvenire ex ante ex ante l'uomo di Conte durante il tema 18 con i migranti a bordo ribadisce in Europa prima si redistribuisce poi si sbarca e per il caso 18 agli atti avete la lettera di Conte in cui dice che le allora determinazioni del ministro all'interno quindi di fare stare a bordo durante la redistribuzione i migranti per le quali è stata presentata richiesta di autorizzazione a procedere sono riconducibili a una linea politica dell'immigrazione da me condivisa come capo del governo e sempre Conte continua le azioni post in essere dal ministro che ha tenuto a bordo tantissime persone in attesa di sbarco attuano l'indirizzo da me sostenuto e coerente con la linea di governo Di Maio e Toninelli rispettivamente all'epoca vicepremiere e ministro dell'infrastruttura vanno oltre sul caso 18 depositano una memoria le determinazioni assunte nelle procedure di salvataggio sono riconducibili a una linea politica condivisa da tutto il governo il governo italiano è riuscito a ottenere coinvolgendo paesi terzi un'assunzione di responsabilità nella gestione dei flussi migratori in questa fase i suddetti membri del governo il ministro delle infrastrutture e dei trasporti da Nino Toninelli in qualità di responsabile delle operazioni in mare ecco giusto vedete chi è responsabile delle operazioni in mare e il vice presidente del consiglio di ministri Luigi Di Maio nelle vesti di capo politico hanno condiviso le modalità delle operazioni di salvataggio della 18 cioè non è che dice una linea hanno condiviso il salvataggio quindi quello che è successo è da imputarsi a tutti noi quindi la stessa identica cosa in una fase un po' diversa politicamente aveva avuto una certa condivisione direi non meno eloquenti le parole del ministro Moavero milanesi che rispondendo a un'intervista che è agli atti gli chiedono ma le vostre idee per un'azione europea sulle migrazioni in cosa consistono e risponde che negli ultimi tempi ci sono stati degli accordi per la redistribuzione prima dello sbarco redistribuzione prima dello sbarco è uno schema condiviso dal conte 1 ma dal conte 2 giusto insomma ora non so però lo dico per chiarezza nel conte 2 il governo che viene dopo il conte 1 Salvini non faceva parte del conte 2 il testimone della Morgese ricorda che effettivamente nel conte 2 c'era la stessa linea si dava il post nel momento in cui c'era la certezza che si poteva condividere prima redistribuzione e poi sbarco piante dosi prima si chiudeva il preaccordo sulla distribuzione a esempio la Francia ne prende 40 la Germania 30 il Lussemburgo ovviamente il procuratore gli dice ho capito ma in caso in caso di tempi lunghi per la redistribuzione cosa si fa nel conte 2 piante dosi e sono rimasti in mare per dei giorni a volte anche due settimane parlo anche del periodo successivo a questo quindi in che periodo chi era ministro quando stavano due settimane a bordo prima di sbarcare la morge se conte 2 testa e mancini 13 maggio 2022 le procedure che veniva seguita è la stessa che si è fatta dopo dalla richiesta di POS a quella che era l'assegnazione del POS passavano dei giorni a volte anche delle settimane c'erano sia questioni tecniche di individuazione del porto di sbarco c'erano interlocuzioni a livello credo di poter dire a livello sia di ministro all'interno ma soprattutto di presidenza del consiglio con l'unione europea con la commissione insomma per cercare di trovare un'equa distribuzione cioè voglio dire semplicemente che quello che è avvenuto con open arms era già avvenuto in precedenza e successivamente ha continuato a essere allo stesso modo quindi voglio dire non è che la richiesta di POS ottiene subito l'assegnazione passano dei giorni potevano essere due sette insomma voglio dire è sempre stato così nella sentenza passata in giudicato del giudice dell'udienza preliminare Gregoretti si riconosce quando viene ricostruita la politica di gestione dell'immigrazione che era la stessa identica politica nel conte 1 e nel conte 2 si tratta virgolettato questo di una politica condivisa dalle forze che sostengono governo conte 1 e governo conte 2 dato che i ministri e gli interni interessati che si sono succeduti nel tempo hanno avuto lo stesso modus procedendi da un lato fermezza e decisa proposizione del principio in base al quale prima si redistribuiscono i naufraghi salvati e dopo si fanno sbarcare dalle navi che sono andati a soccorrerli questa è la sentenza passata in giudicato del gruppo di Catania dice che poi in udienza ci sono state delle timide precisazioni di alcuni ma dice che a prescindere dalle timide precisazioni in realtà questa era la politica agli atti troverete e però abbiamo fatto un elenco per rendere più agevole la ricostruzione la prova di tutto questo allora vi leggo alcuni casi conte 1 18 sbarco avvenuto a Catania il 26 agosto a 10 giorni dalla richiesta del 17 agosto 2018 Sea Watch 3 gennaio 2019 sbarco avvenuto a Catania 31 gennaio 2019 a 12 giorni dalla richiesta del 20 gennaio 2019 Alan Kurdi aprile 2019 sbarco avvenuto a Malta il 13 aprile 2019 a 11 giorni dalla richiesta del 3 aprile 2019 Sea Watch giugno 2019 sbarco avvenuto a Lampedusa il 29 giugno 2019 a 18 18 giorni 18 giorni dalla richiesta 12 giugno 2019 Gregoretti luglio 2019 sbarco avvenuto a Catania il 31 luglio 2019 a 5 giorni dalla richiesta il 27 luglio 2019 però questo è il conte 1 quindi Salvini conte 2 Ocean Viking sbarco avvenuto a Lampedusa il 4 settembre 2019 a 4 giorni dalla richiesta dell'11 settembre 2019 Ocean Viking settembre 2019 sbarco avvenuto a Messina il 24 settembre 2019 a 6 giorni dalla richiesta del 19 e Ocean Viking ottobre 2019 sbarco avvenuto a Pozzallo il 30 ottobre 2019 a 10 giorni dalla richiesta del 21 ottobre e attenzione Draghi Draghi Ocean Viking agosto 2021 sbarco avvenuto a Pozzallo 11 agosto 2021 10 giorni dalla richiesta del 2 agosto 2021 Ocean Viking maggio 2022 sbarco avvenuto a Pozzallo il 6 maggio 2022 9 giorni dalla richiesta del 28 aprile Sea Watch 4 maggio 2022 sbarco avvenuto ad agosto il 17 maggio 2022 a 14 giorni dalla richiesta del 4 maggio 2022 Geo Barents maggio 2022 sbarco avvenuto agosto il 19 maggio 2022 a 8 giorni dalla richiesta del 12 maggio 2022 Geo Barents di agosto 2022 sbarco avvenuto a Taranto il 6 agosto 2022 a 10 giorni dalla richiesta del 28 luglio 2002 Open Arms Open Arms 1 agosto 2022 sbarco avvenuto a Messina il 27 agosto 2022 a 10 giorni dalla richiesta del 18 agosto 2022 Geo Barents settembre 2022 sbarco avvenuto a Taranto l'8 settembre 2022 a 10 giorni dalla richiesta del 30 agosto 2022 Humanity 1 settembre 2022 sbarco avvenuto a Taranto il 22 settembre 2022 a 16 giorni dalla richiesta del 7 novembre 2022 Geo Barents settembre 2022 Sbarco avvenuto a Taranto il 30 settembre 2022 a sette giorni. Per essere completi, perché se no sembrano di parte, anche sotto il governo Meloni abbiamo un Ocean Viking a novembre 2022, sbarco avvenuto a Tolone a 16 giorni dalla richiesta di POS. Credo di avere documentato che lo schema operativo fosse prima ridistribuzione e poi sbarco. Attenzione a un tema, i sostenitori dell'accusa, preso atto di questo schema, hanno obiettato che comunque sostanzialmente la ridistribuzione era già terminata al momento dello scambio di lettere tra Conte e Salvini e che quindi i migranti avrebbero dovuto sbarcare dopo lo scambio delle lettere. Ricostruzione erronea. In quelle lettere, ora tra breve vedremo in che contesto comunque sono scritte, Conte comunica una generica disponibilità di alcuni stati, ma era soltanto l'inizio delle trattative. C'è stato detto che è necessario ovviamente che le trattative siano chiare, siano chiari quali sono i stati che assumono l'obbligo. Poi magari se la quota è diversa, poco importa, ma avere la certezza degli stati e che la trattativa fosse soltanto iniziale risulta anche dall'annotazione di Conte di uno stato che avrebbe partecipato all'accordo che poi in realtà non partecipò mai all'accordo che era la Romania. Quindi in realtà quel tipo di accenno che si fa agli stati che erano disponibili era soltanto l'inizio di un accordo, ma non era un accordo che poteva considerarsi concluso. Perché è importante, come ci dice la Liguori, chiudere questo accordo? Perché poco fa parlavamo degli oneri. Allora, gli oneri si possono traslare da uno stato all'altro solo se c'è la certezza dello stato che fa l'accoglienza. Se non c'è la certezza, gli obblighi e gli oneri non si traslano. E Tiziana Liguori, che ho dimenticato di dire che era responsabile della seconda divisione del servizio immigrazione della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere all'udienza del 2 dicembre, ha detto che l'importante è che poteva essere assicurata la cura delle persone, ma quello che si deve capire è che quando i paesi dell'Unione non davano la loro quota per la ridistribuzione, non possiamo fare sbarcare, non si parla né di un tempo minimo né di un tempo massimo, non possiamo individuare un tempo. La Romania, come dicevo prima, è citata come stato disponibile, ma la Romania in realtà non era disponibile. Basta leggere la mail di Biagini Andrea, Ministero degli Affari Esteri, all'Ambasciatore Massari, in cui si rileva in data 22 agosto, 22 agosto, niente Romania. Quindi quando ci si dice che erano stati individuati gli stati per la ridistribuzione, si sbaglia, perché ancora il 22 agosto niente Romania. Allora quando è che sono stati individuati gli stati, anche se ormai erano sbarcati? Risulta, avete la mail, il 22 agosto alle ore 12.27, Elena Viniarska, della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, scrive all'Italia che è stato raggiunto l'accordo, finalmente si sa quali sono gli stati, Francia 40, Germania 40, Spagna 15, Portogallo 10, Lussemburgo 3. Come vedete non c'è la Romania, indicata da Conte, come stato disponibile? Grazie. 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 Secondo l'accusa, a partire dal giorno 14 agosto, Salvini aggì in solitudine e il Presidente Conte e gli altri Ministri non avallarono le condotte oltransiste e contrarie al diritto, poste in essere da Salvini. Naturalmente, per condotta oltransiste e contrarie al diritto, intendiamo quella di Salvini di far attendere i migranti sulla Open Arms in attesa dell'accordo di redistribuzione. Quindi, secondo l'accusa, tutto quello di cui ho parlato prima, cioè prima redistribuzione e poi sbarco, in realtà vale fino al 14. Il 14 cambiò lo schema. Ora, a parte che basterebbe vedere che poi nel Conte 2 è uguale, ma lasciamo perdere questo. bisogna leggere con attenzione i documenti, le lettere. Come dicevo prima, quando si parla di processo politico, io sono una persona che non parla mai di processo politico, perché penso che i PM sono politici, il Tribunale, anche se condanna a qualcosa di politico. Processo politico si intende un'altra cosa. Si intende che in un contesto politico, che bisogna leggere gli atti per il contesto politico e che bisogna leggere anche le finalità perseguite da Open in un contesto politico. E allora, le lettere del Presidente Conte, è stato detto, queste lettere sono lettere in cui il Governo lasciava solo Salvini. E allora leggiamole tutte. Queste lettere si collocano nella fase della crisi politica di agosto 2019. È una fase particolare, perché c'era chi stava uscendo dal Governo e c'era chi stava creando un altro Governo. E quando si creano dei Governi, legittimamente, si lanciano dei messaggi, si lanciano dei pizzini d'amore. Intanto, all'epoca dei Whatsapp, è raro trovare scambi epistolari. Invece abbiamo uno scambio epistolare. Conte ritiene di scrivere di suo pugno su carta, mentre normalmente mi risulta che ci si manda dei messaggi o si telefona o si parla tramite gabinetti. Comunque, il giorno 14 agosto Conte scrive a Salvini e il giorno dopo, in modo più ampio, manda la lettera al Corriere della Sera, il che non mi sembra che sia una modalità per tenere, credo, riservato il colloquio, più o meno il Corriere qualcuno lo legge, non diciamo qualcuno, tutti lo leggono per evitare. Allora, questa lettera aperta è una lettera aperta che potete leggere tutti. Conte sa perfettamente che la politica a redistribuzione prima dello sbarco ha caratterizzato il suo Governo, così come la linea del rigore. Sa però che in quel momento deve dire qualcosa, perché, come dicevo prima, in quel momento c'era grande attenzione a quello che stava accadendo alla Open. Sa che la vicenda Open è al centro dell'attenzione pubblica italiana e non solo italiana, sa che a Lampedusa ci sono giornalisti e TV e sa che deve intervenire, ma si trova a metà del guado. Deve lanciare un messaggio ai futuri alleati, non può tornare indietro dalla sua posizione. E mentre secondo la Procura prende le distanze sulla scelta di Salvini, assolutamente no, assolutamente no. Conte in quella lettera esclude categoricamente 15 agosto che la sua volontà fosse quella di far sbarcare i migranti. Distingue quello che lui vuole sui presunti minori e quello che vuole sugli altri migranti. Come mai parla di presunti minori e non parla degli altri? Si era dimenticato degli altri migranti? Assolutamente no. Si stava occupando lui stesso dei migranti in quelle ore. Stava ancora facendo le telefonate per redistribuire prima dello sbarco. Ed erano appena iniziate le trattative. È un momento politico particolare. Quando scrive la lettera aperta, contesta parzialmente Salvini. Lo contesta solo sui minori, ma soprattutto gli contesta una cosa. Di avergli attribuito quello che ora gli attribuisce l'accusa. Non è vero affatto che Conte voleva fare scendere i migranti. E siccome Salvini in uno dei suoi messaggi aveva detto ma qual è l'atteggiamento di Conte? Conte ci tiene a dire io non sto assolutamente assumendo un atteggiamento diverso da quello che ho avuto finora. Io non ho assolutamente detto che devono scendere i migranti. E rimprovera Salvini di voler fare passare un messaggio diverso da quella che è la vera intenzione del Presidente del Consiglio. E basta leggere, perché qua non è che si tratta di interpretare. Ti ho scritto ieri l'altro una comunicazione formale. Con volontà di far sbarcare i migranti a bordo. Cioè Conte dice guarda che devi distinguere. Sui minori ti dico di farli sbarcare, sugli altri io sto facendo la redistribuzione. Quindi fin qui c'è totale adesione all'operato di Salvini. Anzi queste lettere sono chiaramente una resa di conti politici a fine governo ed è chiaro che la questione non è open. Se no non c'è bisogno di pubblicare sul Corriere della Sera. Ed è chiaro che il problema non sono i minori. Se no non si dedica mezzo rigo ai minori e il resto della lettera a rivendicare tutti i successi politici in tema di flussi migratori, a rivendicare la sua strategia chiaramente rivolta a far cambiare idea all'Europa. Attenzione le lettere vanno lette per quelle che sono. È una lettera in cui da un lato si rivendicano i successi, dall'altro si manda il bigliettino d'amore al PD in cui si dice guarda che io lo so contestare Salvini, però in parte lo contesto solo sui minori. Guarda che io posso cambiare parzialmente la mia politica. e attenzione nella lettera del 16 questo è ancora più evidente dall'uso dei verbi perché quando parla dei minori gli dice in questo momento fai sbarcare i minori quindi fai imperativo presente poi successivamente ti attiverai per lo sbarco dopo la ridistribuzione. Quindi se c'è una cosa che provano queste lettere è che sui migranti la posizione in quel momento era identica con messaggio al PD apertura. Naturalmente Salvini che comunque sa leggere quelle lettere a fiuto politico comprende che sono lettere scritte a nuora perché suocera in tenda, laddove suocera è il PD, comprende che è un politico? Perché Salvini ricorda perfettamente che Conte aveva presentato il decreto sicurezza bis facendosi immortalare con dei cartelloni tipo sandwich sul petto in cui si esaltava il decreto sicurezza bis. Ricorda perfettamente che Conte aveva rivendicato ridistribuzione e solo dopo gli sbarchi e quindi risponde in punta di diritto ma attenzione questo mi sembra che non sia chiaro anche da un punto di vista giuridico. Quali sono i finali delle lettere di Salvini? Tutte e due le lettere scrive io la penso in questo modo da un punto di vista giuridico ma mi rimetto a te, assumi le iniziative che vuoi, ogni valutazione resta tua. Quindi Salvini che ha capito che c'è un tema politico e forse anche un tema giuridico dice ok io la penso diversamente, fai tu. Bisogno? Sospendiamo qualche minuto? Anche pochi, tanto passo un argomento... D'accordo, allora sospendiamo una decina di minuti e poi riprendiamo con la discussione dell'Avvocato. Giulia buongiorno. Come ho anticipato il posto sicuro post è stato concesso il 15 agosto alle 3 e 23 dopo meno di due ore dell'ingresso in acque territoriali italiane. È stato contestato però il ritardo e siccome io prima ho letto un po' che la concessione del posto almeno in tre governi è sempre avvenuta con un certo margine temporale abbastanza ampio di distanza dal momento della richiesta c'è da chiedersi ma allora tutti violano la normativa internazionale che prevede che questo posto sia dato immediatamente perché se un capo imputazione si dice che Matteo Salvini non ha esitato il posto tempestivamente significa che esiste una norma che indica il tempo entro il quale deve essere concesso il posto significa che tutti i casi che io ho indicato governo Conte 1 Conte 2 e Draghi hanno violato tutte queste norme internazionali. In realtà nessuno ha violato alcunché perché nemmeno l'accusa ci ha indicato qual è la norma che prevede che il posto abbia una scadenza. Io credo che ci sia un po' di confusione da parte dell'accusa tra il concetto di posto e altri concetti. Intanto spesso ho sentito dire posto vuol dire porto sicuro, no, place, place, place non è porto, place è posto. Il place of safety cioè luogo sicuro non è un porto sicuro. Il place of safety è un concetto ampio e può essere individuato sia sulla terra ferma che in mare. In particolare è un luogo di sicurezza che potrebbe essere situato a terra a bordo di un'unità di soccorso o di un'altra nave che possa servire come luogo di sicurezza fino a che i sopravvissuti siano sbarcati verso la successiva destinazione. Questa è l'esatta definizione di posto. Quindi non possiamo stabilire che il posto ha delle caratteristiche diverse. Le convenzioni internazionali e le linee guida non hanno un solo rigo in cui sia previsto un termine perentorio. Io credo che anche giuridicamente l'utilizzo dell'avverbio tempestivamente sia totalmente sbagliato proprio perché la normativa internazionale non prevede un termine perentorio e non lo prevede né per la concessione del POS né per la concessione del momento dello sbarco. Perché? Perché la convenzione SAR certamente prevede che gli stati firmatari debbano garantire che sia prestata assistenza a ogni persona in pericolo mare senza distinzione sulle nazionalità, allo status. Ma occorre tenere presente che proprio per ottimizzare queste procedure previste dalle convenzioni SAR che prevedono questi soccorsi ci sono state delle novità, cioè degli emendamenti. Io vorrei che si focalizzasse l'attenzione sulle novità, sugli emendamenti, su quello che veramente è previsto. L'emendamento dell'articolo 33 della convenzione SOLAS e l'emendamento del capitolo 3.1.9 della convenzione SAR richiedono agli stati alle parti contrenti di coordinarsi e cooperare per far sì che i comandanti delle navi che prestano assistenza siano sollevati dai propri obblighi e di organizzare lo sbarco appena questo sia ragionevolmente. praticabile. Non entro un giorno, non entro due giorni, non entro tre giorni. Quando è ragionevolmente praticabile? L'espressione inglese è as soon as raisonevoli praticable. Quando è ragionevolmente praticabile? Quindi non c'è la parola immediato, non c'è la parola due giorni, non c'è la parola subito. Non ci sono parole che possono giustificare un capo di imputazione in cui si parla di tempestività. La locuzione è ragionevolmente praticabile, tra l'altro deve essere correlata ai fini di una corretta interpretazione al paragrafo 2.6 dell'annex 34 alla risoluzione 167, secondo cui ogni caso può comportare circostanze diverse. Perché non è che quando si fanno queste convenzioni non ci si rende conto del fenomeno che si sta regolando. Questi emendamenti danno allo Stato responsabile flessibilità, flessibilità e dicono ogni caso ha caratteristiche diverse, ogni caso va affrontato in modo diverso. Ogni caso può avere delle caratteristiche che impongono tempi più lunghi. Addirittura c'è un'espressione importantissima, le linee guida contemplano la possibilità che ci siano dei ritardi e definisce i ritardi inevitabili. Abbiamo un capo imputazione in cui si parla di tempestivamente e le convenzioni che parlano di ritardi inevitabili. Il comandante dovrebbe comprendere che in alcuni casi il necessario coordinamento tra Stati può comportare ritardi inevitabili. Ma va bene, quindi abbiamo visto che manca questa espressione che mi sembrava il presupposto del capo di imputazione, cioè il termine perché si parla di tempestivamente, vabbè. Però ci si potrebbe chiedere ma ragionevolezza cosa vuol dire? Quello che è ragionevole per me può non essere per l'altro. E chi interpreta la ragionevolezza? Esistono dei parametri che consentono di stabilire quando è ragionevole, quando non è ragionevole e soprattutto quali sono gli interessi da prendere in considerazione. Dobbiamo immaginarlo o è previsto da qualche parte? È previsto. Il limite della ragionevolezza, quindi ragionevole il tempo entro il quale fare, sbarcare, non c'è scritto un giorno, non c'è scritto immediato, non c'è scritto subito. Il limite della ragionevolezza deve essere considerato tenendo conto di quali interessi? Degli interessi dell'ONG? No, degli interessi dei migranti e dello Stato o degli Stati interessati. Quindi questi sono i due interessi. Però Presidente sono due gli interessi, non è uno solo. È chiaro che le esigenze primarie della salute possono condizionare la durata del tempo ragionevole. Però nelle convenzioni non è che si parla solo ed esclusivamente dei migranti. Si parla anche, e meno male, degli interessi dello Stato. Annex 34 alla risoluzione 167, come principio generale del diritto internazionale, la sovranità di uno Stato consente a tale Stato di controllare i suoi confini e consente a talo Stato di escludere gli stranieri dal suo territorio e di prescrivere leggi che disciplinano l'ingresso di stranieri nel suo territorio. Occorre bilanciare il tema della salute dei migranti col tema del controllo dei confini. Non è che Salvini, che addirittura è stato sbeffeggiato per aver utilizzato il termine desueto, confini, si è inventato questo termine. La parola Stato esiste, la parola tutela dei confini esiste. L'esigenza di tutelare gli Stati non è inventata. Io credo che l'errore di fondo dell'accusa sia quello di considerare solo gli interessi dei migranti e ritenere esigenze di sicurezza e di ordine pubblico estrane, estrane al procedimento di accoglienza. Non sono estrane al procedimento di accoglienza. Esiste una sentenza passata in giudicato, GOP e Catania, che ha già ritenuto legittima una temporanea limitazione della libertà dei migranti in base all'esigenza di bilanciare gli interessi dei migranti con quelli dello Stato. Esistono gli interessi dello Stato e la sentenza ricorda lo status, la condizione del migrante. Nel senso che, quando si deve valutare giuridicamente la posizione del migrante, si deve tenere conto che, virgolette sentenza passata in giudicato, i migranti che giungono clandestinamente nel territorio nazionale si trovano in una situazione contraddistinta da una sorta di detenzione amministrativa o di libertà limitata, che può durare diversi mesi e che viene caratterizzata con l'accettazione dei predetti nei centri di accoglienza da dove possono allontanarsi e dove permangono in attesa di tutti gli adempimenti del caso, anche se poi molti di loro si rendono praticamente irreperibili e invisibili, andando a infoltire la nutrita schiera di irregolari che stazionano nelle nostre città, anche creando seri problemi di ordine pubblico, oltre che seri problemi di convivenza con parte delle comunità locali. Questa è una sentenza passata in giudicato che, quando parla delle esigenze, degli interessi da porre a confronto, da bilanciare, fa presente che il migrante non ha uno stato di libertà assoluta, ma una porzione della sua libertà l'ha lasciata a casa, accettando questo passaggio di condizione, la condizione di una libertà temporaneamente limitata. Questo significa che in qualche modo viene compressa la sua libertà se deve rispettare delle procedure? Secondo il group, no. In linea con questa normativa internazionale che veramente va approfondita, ed è una normativa che prevede esplicitamente flessibilità, libertà nell'individuazione della tempistica per il POS. In base a questa convenzione internazionale e al nuovo indirizzo politico del governo c'è stato un accordo stabilito, ora vi dico da chi, in un tavolo tecnico. Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, Ministero dell'Interno. Dipartimento per le libertà civili e immigrazione, Ministero dell'Interno. Comando generale del Corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Stato maggiore della Difesa, Stato maggiore della Marina. Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Comando generale della Guardia di Finanza. Nelle persone di Vittorio Pisani, Tiziana Liguori, Fabio Guadagni, Daniela Parisi, Sergio Liardo, Claudio Manganiello, Alberto Meoli, Giuseppe Aletta, Luca Provenzano, Alessandro Morosini, Luca Giovanni, Castellammare, Andrea Cruciti, Marco Guerrini, Angelo Pitocco, Massimiliano Pecchia, Paolo Zottola. Mi sembra che stiamo parlando di persone al di sopra di ogni sospetto. Io ho sentito in una requisitoria dire che questo tavolo tecnico è borderline. Ma borderline è un tavolo tecnico, cioè ci si è seduti attorno a un tavolo e si sono sedute istituzioni di massimo rilievo, esaminando le convenzioni e il nuovo indirizzo politico del governo hanno fatto una riunione di coordinamento avente ad oggetto il contrasto all'immigrazione illegale. E in questo tavolo sono state date delle indicazioni decisive, 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 perché testualmente, testualmente, il dottor Pisani ha detto la tempistica dello sbarco a terra, sarà inevitabilmente determinata non solo dalle valutazioni del Ministero dell'Interno, ma altresì dalle interlocuzioni governative con gli organismi europei per l'eventuale redistribuzione. Precisando altresì, quello che è avvenuto per Open Arms, precisando altresì che in tali casi l'assetto navale intervenuto potrà essere ritenuto valutandone la capacità quale post-temporaneo. In questo tavolo tecnico si prende atto che le convenzioni parlano di flessibilità, si prende atto che il governo sta raggiungendo via via nuovi accordi di redistribuzione e che per non fare scattare gli oneri che sono previsti dall'accordo di Dublino, bisogna prima redistribuire e poi sbarcare. E quindi si rende conto che è necessario stabilire che le varie navi devono essere post. È chiaro che la nave può essere post se non viene abbandonata in mezzo al mare, ma se si crea attorno alla nave una cinta di sicurezza, in modo tale che ci sia non solo la sicurezza, ma un POS adeguato a tutelare i migranti. Ma le caratteristiche del POS quali sono precisamente? Cioè ognuno di noi può dire questo è un POS, questo non è un POS, basta che sia una nave? Come facciamo a stabilire se Open era un POS? Può deciderlo un giudice perché non esiste nessun tipo di indicazione normativa e quindi discrezionalmente deve rendersi conto della situazione e stabilire POS o non è POS? O ci sono degli aiuti, ci sono delle strade, ci sono degli appigli normativi, che come delle guide ci possono far capire se una nave è POS o non è POS? La risposta è ci sono. In particolare stiamo parlando del paragrafo 3 dell'appendix, alcuni commenti sulla legge internazionale alle stesse linee guida di cui parlavamo. La Convenzione SAR non definisce luogo sicuro perché non c'è questa definizione. Tuttavia, tuttavia, perché essendo ovviamente delle linee guida ti voglio guidare. Sarebbe in contrasto con l'intento della Convenzione SAR definire un luogo sicuro esclusivamente mediante riferimento alla posizione geografica. Ad esempio, un luogo sicuro potrebbe non essere la terraferma, piuttosto un luogo sicuro dovrebbe essere determinato in relazione alle sue caratteristiche e a ciò che può garantire ai sopravvissuti. Allora la domanda è, cosa chiede? Che sia garantito ai sopravvissuti qualcosa che dobbiamo via via interpretare o c'è un elenco di ciò che deve essere garantito? C'è un elenco. è il luogo sicuro, quello in cui i sopravvissuti non siano in pericolo di vita e dove le necessità umane primarie, cibo 1, 2, riparo 3, cure mediche, possano essere soddisfatte. Cibo, riparo e cure mediche. Cibo, riparo e cure mediche. È un posto sicuro da cui può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella loro successiva o finale destinazione. Le lina guida, interpretano e forniscono un elenco chiuso e tassativo. Noi non possiamo oggi dire, e sì ma secondo me però ci deve essere questo requisito in più. No, non si può. È il luogo sicuro, quello nelle quali le operazioni di salvataggio si considerano concluse in cui i sopravvissuti non sono più. Uno, pericolo di vita, due, anno, cibo, riparo e cure mediche. Basta, basta. Non possiamo dire ma doveva avere la libertà di fare... No, è un postemporaneo, è un postemporaneo. Non possiamo dire che servono altri requisiti. Anche perché, se no non sarebbe temporaneo, se no non verrebbe definito temporaneo, questa è una prima tappa, gli ulteriori diritti che esistono saranno soddisfatti alla destinazione finale. Ma in che situazione si trova allora Open Arms? Quando giunge in prossimità di Lampedusa, viene abbandonata a se stessa, ci sono pericoli per l'incolumità dei migranti, ho sentito pure dei tentativi di suicidio, ora vediamo. Intanto c'è un diario di bordo, poi su questo dirò qualcosa, da cui emerge un susseguirsi di sopralluoghi per verificare la situazione a bordo, evacuazioni, visite psicologiche e richiamo la deposizione di Liardo, a partire da pagina 48, in cui ho chiesto a Liardo cosa succedeva quando c'era questa nave lì davanti a loro, ci furono molte persone che andavano, cosa succedeva? Ad esempio la consegna di viveri, come avveniva da parte di Astral, chi è Astral? Astral è un'unità di un'organizzazione non governativa, ci conferma che alle 18.44 salì una squadra di psicologi? Sì. Ci conferma che alle 19.49 del 15 agosto inizia l'evacuazione e viene completata e successivamente il 16? Sì. Le risulta che alle 12.04 del 16 c'è un nuovo permesso per imbarcare una squadra di psicologi? Sì. Le risulta che veniva continuamente autorizzato l'approvvigionamento di viveri e quant'altro necessario? Assolutamente sì. Le risulta che il 17 venne autorizzato a salire a bordo l'armatore? Sì. Le risulta che alle 13.30 Open Arms venne autorizzata a fare compere? Compere. Lui su questo non se lo ricorda, dopo di che si è andata a vedere il diario di bordo, visto che questa nave era isolata in mezzo al mare, chiedono di andare a fare compere i sequestrati, scendono i sequestrati vanno a fare compere e tornano. E che si trattasse di un post viene ribadito da una serie di testimoni che sono stati sentiti in questo processo e in particolare ricordo le dichiarazioni dell'ammiraglio liardo perché sono molto eloquenti. Ci fornisce un dato secondo me dirimente e cioè Open Arms a quel punto era alla fonda, non era più in pericolo. Vi ricordate il primo requisito? Non essere in pericolo. In quanto l'equipaggio e i migranti erano nelle condizioni di essere ridossati, avevano l'assistenza sanitaria ogni qual volta era necessario. Quindi garantita la salute, garantita la sicurezza. Inoltre vi erano le motovedette che pattugliavano per il caso in cui qualcuno si lanciasse in acqua. Non c'era pericolo, ti lanciavi e venivi ripreso. Ora vediamo perché si lanciavano tra l'altro. Quindi ammiraglio liardo avevano l'assistenza massima che potevamo dare. Attenzione, un'altra importantissima definizione di POS, di Liardo. Anche ai fini della normativa internazionale la rada è a tutti gli effetti un porto. Insomma, tra virgolette erano giunti in un'area in cui, come dire, rientra esattamente nel concetto di porto, di porto, di porto. Faccio presente che risulta dalle stesse dichiarazioni di Oscar Camps che, per quanto riguarda la sicurezza a bordo, era l'imbarcazione di salvataggio e ha una sicurezza garantita fino a 300 persone. 300 persone che però ovviamente non erano a bordo perché sappiamo che quando entrano nel porto sono più o meno un terzo, direi. E passiamo al cuore dei cuori. Diritti umani. Un tema fondamentale è quello anche dei diritti dei migranti, a prescindere dalle condizioni di salute. Si badi, Presidente. Io potevo fare una scelta diversa e dire. La normativa internazionale prevede salute, cibo e sicurezza. Basta? Basta? Non è che ora prevede diritti umani, libertà di movimento. Direi questa è la norma. No. Andiamo oltre. C'era attenzione, a parte il tema della salute, anche all'igiene e ai diritti a bordo? Io credo che abbiamo prove, non di attenzione, di grande attenzione, di scrupolo, di sensibilità. Va detto per chiarezza che tutto ciò che riguarda le condizioni a bordo, ovviamente, ecco, sarebbe di competenza oggi del Ministro Salvini, che è Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e che ha sotto di sé la Guardia Costiera. Ma all'epoca era Ministro all'Interno. Non c'entra nulla con la verifica delle condizioni a bordo quel Ministero. In particolare la competenza a vigilare, ad assumere iniziative per ciò che riguarda le condizioni a bordo, non è del Ministero dell'Interno, ma questa competenza del Ministero dei Trasporti e del Ministero dei Trasporti per il tramite del Centro Nazionale di Coordinamento e del Soccorso Marittimo, di concerto con due importantissime autorità, che sono CIRM e USMAF. Il CIRM è il Centro Internazionale Radiomedico, ora vedremo il ruolo del CIRM. Il Ministero della Salute ha l'USMAF, che è l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera. Secondo il testo di riferimento nazionale, procedure per l'assistenza medica in mare in situazioni di emergenza sottoscritta da IMRCC, CIRM e USMAF, si prevede che IMRCC ha un potere decisionale autonomo. In ordine alla possibilità di effettuare un trasbordo, per ragioni mediche, CIRM e USMAF assistono IMRCC nel prendere decisioni più adeguate. Le valutazioni che sono fatte da questi organismi non sono vagliate da altri ministeri, sono autonome ed esclusive. Cioè la legge ha previsto che per quanto riguarda ciò che avviene a bordo e tutte le condizioni, queste devono essere valutate da questi organismi. E la competenza è una competenza esclusiva. Qual è la riprova? Credo che voi ricorderete che abbiamo prodotto agli atti il fascicolo, un po' di carte, del caso Marionio. Perché abbiamo prodotto il caso Marionio? Il caso Marionio è un caso del 2 settembre 2019. In quel caso non c'era POS, non era stato dato il POS a Marionio. Quindi Marionio non poteva fare, sbarcare i migranti. In assenza di POS smarcarono i migranti. Com'è possibile tutto questo? Senza coinvolgimento del Ministero dell'Interno? È possibile perché il medico dell'USMAF aveva attestato che c'erano delle criticità a bordo da un punto di vista igienico. Quello stesso medico Arnone ha fatto il sopralluogo su Open Arms attestando che non c'erano assolutamente condizioni precarie che imponevano lo sbarco. Quindi io ho sentito parlare di situazioni di contagio, scabbia, condizioni pessime. Allora, una cosa è quello che si dice, una cosa è quello che c'è. Allora, ci sono delle relazioni. Il 17 agosto il personale USMAF effettua l'ispezione a bordo, che era quella tra l'altro disposta alla procura di Agrigento. Antonio Arnone, che era quello che invece aveva fatto sbarcare per questioni di igiene i migranti da Mar Ionio, non fa sbarcare nessuno da Open Arms e li avrebbe potuti fare sbarcare senza nemmeno dirlo a Salvini. Nella relazione di Mar Ionio c'è un giudizio negativo per una permanenza di migranti a bordo per le condizioni dei servizi igienici. Perché hanno il diritto oppure avere dei servizi igienici adeguati i migranti? Sì. Per l'impossibilità di usufruire del locale destinato a infermeria, che evidentemente non si poteva usare. Per l'elevata quantità di rifiuti stoccati a bordo, per le precarie condizioni psicofisiche dei migranti. Diceva Arnone, io ho visto questa situazione, non possono più restare. Quindi non era un problema necessariamente stanno male. C'erano delle condizioni igieniche, c'erano i bagni in disordine, c'era una situazione che non tutelava i diritti dei migranti. Ora, quello che mi colpisce è che chi sale su Open non è un altro medico, perché vedete se fosse salito un altro medico poteva magari avere sensibilità diverse, criteri di valutazione diversi. Sale lo stesso Arnone! Sale lo stesso Arnone! E cosa rileva? Non rileva la situazione che ho sentito in quest'aula. Quella che ho sentito in quest'aula era di Marionio. I capi di vestiario sono lavati e stesi. Non si riscontrano tracce di materiale biologico. I servizi utilizzati stanno in ordine, si presentano puliti, i migranti appaiono sono provati fisicamente e psicologicamente, ma si mostrano calmi e collaboranti. Le celle frigorifere e le due celle frigorifere sono in ordine dove sono conservati gli alimenti, le spezioni del locale destinata all'infermeria è attrezzato per le prime urgenze. C'era una situazione non di grandissimo benessere, ma di tranquillità, di la possibilità di procrastinare a bordo la convivenza. Tutto era in ordine, tutto era pulito. Non viene formulato un giudizio negativo per la permanenza a bordo. Sul punto abbiamo sentito anche piantedosi, al quale ho chiesto se ricordava se c'erano state delle ispezioni per verificare le condizioni a bordo e lui ovviamente dice guardi che queste ispezioni, tutto ciò che riguarda le condizioni a bordo, noi nemmeno lo sappiamo. Comunque per quello che ricordo nessuno mi ha detto niente, è competenza di altri, ma gli organismi sono USMAF e CIRM, ma nessuno ha segnalato criticità. Quindi questo primo rilievo riguarda le condizioni da un punto di vista, diciamo ancora, igienico-sanitari e sanitarie e la differenza con Marioni. Dopodiché io ho sentito dire che c'era comunque uno stato tale di angoscia, di privazione di diritti, di sofferenza, di prostrazione, che portava i migranti al tentativo di suicidio. Ora, Presidente, io sono andato a misurare, open, io non ho mai visto uno che tenta il suicidio da due metri, che è il posto dal quale saltavano, e facevano il salto col salvagente. E la terra era a pochi metri. Io credo che forse bisogna anche ascoltare quello che hanno detto i testimoni, prima di parlare di tentativo di suicidio. la costa era a poche centinaia di metri, è un testimone d'eccellenza il diario di bordo, perché il diario di bordo è scritto da open. Il 18 agosto, sapete cosa trovate annotato? Abbiamo casi di persone che si sono volute buttare in acqua per raggiungere la costa notando. Ma è chiaro, se io sto viaggiando perché qualcuno mi ha fatto bighellonare per settimane e vedo di fronte la costa e vedo che tanto ci sono le motovedette che mi possono salvare in qualsiasi minuto e sto a due metri d'altezza e ho un salvagente e mi tuffo. È un tentativo di suicidio o è una chiara volontà di raggiungere la costa. Cristina Camilleri, che non aveva motivo, visto da chi era stata citata, che è medico, ausiliario della Procura della Repubblica di Agrigento, ha detto durante il tragitto per arrivare sull'isola la fantasia che mi ero fatta rispetto alla notizia che alcuni migranti si fossero buttati in mare era quella di un comportamento di tipo autolesionistico. L'osservazione diretta invece, chiaramente, è stata diversa. I migranti che si lanciavano in mare si lanciavano perché la pulsione di vita era maggiore. Questi volevano andare a nuoto a Lampedusa. Lo stesso è precisato da Liardo, che garantisce, quello che è, che garantisce, che testimonia che avevano comunque messo le moto vedette in aria perché c'era la possibilità, come è avvenuto, che qualcuno si lanciasse per raggiungere la costa. Perché ovviamente sono persone esperte e sanno che se un migrante vede vicino alla costa, mette il salvagente e si tuffa. Ora, per fare l'avvocato del diavolo, senza offesa, il fatto che questi migranti si tuffavano, secondo l'accusa, dimostra comunque un profondo disagio. Perché? Perché si potrebbe dire. Però tu così. Vero è che magari si tuffavano per raggiungere la costa. Però li costringe a tuffarsi. Quindi c'è una libertà di movimento perché pur di andare lì mi devo tuffare. Non è che puoi considerare una via facile il tuffo. Il tema è un altro. La Guardia Costiera ha aperto una via d'uscita per il semplice disagio di coloro che erano a bordo. Per salvaguardare tutti i diritti. risultati. Non mi riferisco alle autorizzazioni allo sbarco per motivi di salute. Medevac mi sembra che siano chiari, nemmeno ve li voglio illustrare. E' un secondo varco, una seconda apertura, una seconda opzione per tutelare i diritti dei migranti. Naturalmente trattandosi di un varco per coloro che avevano disagio a stare a bordo, chi era competente era la Guardia Costiera. Chiunque riferiva di non adattarsi alla vita di bordo per ragioni di spazio, stress o perché non tollerava la promiscuità, scendeva. Senza controlli, senza verifiche. Anzi, scendeva lui e con un presunto accompagnatore scelto a caso. Vediamo, questi sono gli unici documenti che troverete allegati. È molto importante questo passaggio se vogliamo arrivare a vedere le vere condizioni dei migranti. Il giorno 15 agosto, gli psicologi di emergency raccolgono alcune dichiarazioni dei migranti. Purtroppo devo andare in dettaglio, ma è una necessità. Asefa Daniel Salomon. L'esame clinico ha un eloquio fluente, umore deflesso, difficoltà ad addormentarsi, pensieri intrusivi, angoscia. Promiscuità a bordo con persone di nazionalità libico-bianca lo terrorizza. Quindi è un disturbo ad adattarsi alla vita di bordo. Il fatto cioè per questa persona che stava in una condizione, diciamo, di promiscuità creava una difficoltà di adattarsi. Michal Tesfalded era affaticata e priva di energia e aveva stipsi. Tutto questo è influito sull'umore della paziente che è sul versante depressivo. Si ipotizza un disturbo depressivo e quindi è stressata dalla vita a bordo. Eloquio rallentato per Berna Tevdos, difficoltà ad addormentarsi. Incubi dall'esame psicologico, presenza di un disturbo da stress a bordo e qui abbiamo due sorelle che vedremo che poi loro sono due copie in colla. Comunque difficoltà a mantenere il sonno è angoscia. Si mostra collaborativa però ha un eloquio rallentato, rallentato. Quindi ansia e umore e defresso per la vita a bordo devono scendere. Allora queste sono dichiarazioni raccolte da emergency in cui queste persone dichiarano che non si adattano alla vita di bordo. Chi perché è di un colore e non sta bene con l'altro colore? Chi perché per i propri vissuti magari non riesce a continuare a convivere? Chi è stressato? Insomma delle condizioni che nulla hanno a che fare con delle condizioni mediche gravi o condizioni quelle delle medevac. Normalmente quando ci sono questi viaggi sono delle condizioni che fanno parte della vita di viaggio e normalmente queste cose fanno parte di questo tipo di viaggio. Invece si decise che di fronte alla semplice dichiarazione del disagio, dell'impossibilità di convivere con quello dell'altro colore, dello stress e della stipsi, quindi un semplice disagio a bordo, venne deciso lo sbarco immediato. Lo sbarco è chiesto alle 17.42, alle 18.19 si sbarca e il CIRM che normalmente, cioè se è una cosa medica fai un controllo. Siccome era un varco di diritti umani non fa nessun controllo. Sono casi relazionati di patologie tipo psichiatrico come centro di telecomandi, non ho strumenti o competenze, fateli scendere. Quindi il 15, il 15, cinque persone scendono dichiarando che la vita a bordo era stressante. A questo punto, sino a questi cinque, ne scendono altri quattro che si dichiarano accompagnatori. Non si fa nessun controllo da parte del CIRM, ma vi è di più, vi è di più. Non solo nessuno si sogna di fare controlli, ma era evidente, perché li ho posti io al confronto, che c'erano due discrepanze enormi tra quello che scriveva Open e quello che attestava Emergency. perché, ad esempio, Montes attestava che c'erano tre minorenni e nella relazione con la quale scendeva, quindi Montes dice ti sto mandando giù una minorenne, nella relazione c'era scritta data di nascita 142000, quindi era un minorenne di 19 anni che scendeva. Ma nessuno importava di fare verifiche sul disagio, sull'età, sul fatto che la Montes diceva minorenne e la data era 2000. Scendi, scendi gli dicevano. L'altra, cheppure ovviamente c'è una netta discrepanza, bastava fare un controllino, questa si chiama Cromo Bayen, ma viene chiamata dalla Montes Ecran, anche questa è una minorenne, ma la relazione Emergency diceva che aveva 18 anni. Poi queste due erano sorelle e si vede perché nella descrizione che fanno, fanno la stessa descrizione di vita e poi si vede anche dal cognome. Allora, cosa fa Open? Dice che sono due minorenni, invece sono tutte due maggiorenni e le fa scendere come se fossero persone separate con altri due accompagnatori, mentre ovviamente erano due sorelle adulte che viaggiavano insieme. Nessuno controlla nulla. Solomon, che è quello stressato, perché aveva un colore di pelle diverso eccetera eccetera, dichiarato minorenne, anche questo è un minorenne di 18 anni. Cosa significa questo che voglio dire? Che nessuno stava controllando niente? Ma non perché siamo scarsi o perché c'era indifferenza, perché come spesso avviene c'era la volontà di aiutare i migranti da parte dell'Italia, da parte della Guardia Costiera, c'era un canale per chiunque dichiarasse il disagio, per chiunque dichiarasse io, no, mi ha dato. Non intendo quindi dire che c'era un problema di salute, perché i problemi di salute li tengo a parte e le medevac sono state fatte. Sto dicendo che c'è la prova agli atti che il 15 agosto sulla base della dichiarazione io non mi adatto alla vita a bordo si scendeva con un accompagnatore. Allora, allora, e sequestro di persona se il sequestrato può sbarcare facendo presente che non si adatta alla vita della nave? Sequestro di persona, un minimo di compressione della libertà ci vuole. E sequestro di persona, se una persona dichiara insonnia, stress, depressione, non adattamento alla vita di bordo, ed esce senza nessun controllo? Allora, io qui mi sono fatta una domanda. Se Open, il 15, nota che è sufficiente fare queste dichiarazioni che non vengono controllate e scendono 5 più 4, quindi 4 accompagnatori più 5, scendono 9, ma nel giro di due ore. La domanda è, ma perché non sbarcano tutti? Perché gli altri non avevano disagio? Allora, delle due luna, o tutti gli altri non avevano un minimo di disagio e stavano bene nella nave, oppure Open poteva tranquillamente fare quello che aveva fatto per gli altri 5 e farli scendere tutti. Tutti potrebbero scendere il giorno 16. Ripeto, non si tratta di certificare false patologie, si tratta di scrivere quattro righe in cui si dice disagio e la guardia costiera aveva dimostrato di far scendere loro e i presunti accompagnatori. Allora, la mia domanda è, era difficile compilare questo modulo, è un modulo in cui ci sono tre righe, in cui bisognava scrivere la parola disagio. Erano 100? Se si diceva ai migranti scrivi la parola disagio e scendi, quanto ci voleva? Tenete conto, tenete conto che a bordo c'è sempre stato un medico che ha fatto dei report individuali e ha compilato nome e cognome e le condizioni di quelli che salivano. perché tenete conto di questo? Per un'altra cosa che adesso succede. C'è qualcosa secondo me di particolare che poi infatti l'ho trovato anche sul diario di bordo, tra il 15 e gli altri giorni. Nel senso che, una cosa è quello che è accaduto il 15, altra è quello che accade dal 16 in poi. Anzi, quello che non accade dal 16 in poi. E vedremo che risulta anche al diario di bordo, secondo me che è successo qualcosa. Open vede che c'è questo barco, abbiamo detto, può compilare questi moduli e che fa? Cambia totalmente le richieste che fa l'Italia. Inizia a chiedere per farsi dire no. manda la Montes capomissione alle 12.54 una mail, anziché fare quello che doveva fare, fare i moduli, dice no no, io voglio lo sbarco di tutti i migranti e non intendo ipotizzare disagio stesso, non scrive niente, vuole solo lo sbarco come dice lei. Ovviamente come risponde l'Italia. Scusa, se fino a ieri mi hai fatto scendere le persone scrivendo disagio, 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 perché oggi non si può fare più. Guarda che c'è un numero, il numero del CIRM, telefona e segui la procedura e scendono. Il CIRM gli manda i moduli questi che vi ho fatto vedere prima e gli dice scusa fino a ieri hai fatto i moduli, fai i moduli e scendi. Open risponde. Non vogliamo perdere tempo per fare i colloqui. Si trattava di compilare cinque righe di moduli. A questo punto, ecco qui sinceramente mi sembra che l'Italia si metta in ginocchio perché dice a Open allora se è troppo stancante fare i moduli nuovi. Dammi quelli vecchi, dammi quelli che ha fatto il medico di bordo via via, ti faccio scendere in ginocchio. Il 16 agosto. Mandatemi quelli già elaborati. Quindi si tratta di inoltrare, clic e vanno. Ebbene, questa mail l'ho visto che fine fa. La Montes la gira a Oscar Camps ed è un chiaro ok allo sbarco. Mandami i moduli che hai, che hai, che hai, che hai. Bene, Oscar Camps legge. Sapete qual è la risposta? Stiamo parlando di una nave con i migranti stressati, che stanno col disagio, che hanno secondo qualcuno malattie. Si può risolvere con un inoltre mail. Non viene data risposta all'Italia. L'Italia in ginocchio. Sei sequestrato. Il carceriere ti dice, mandami i moduli che hai. Cosa fa il sequestrato? Volta le spalle. Chi sta bloccando i migranti a bordo? E soprattutto i migranti sono stati informati che l'Italia aveva chiesto una mail con i dati già presenti per farli scendere. Cala il silenzio. Cala il silenzio. Cala il silenzio. La Montes non invia il report. Non invia nulla. E il report non viene, non viene mandata la mail che già hanno. Il giorno 16, presidente. Il giorno 17, presidente. Il giorno 18 e il giorno 19. A questo punto l'Italia ha di nuovo in ginocchio. Cosa fa? Scusate, perché non ci mandate la mail? L'Italia scongiura Open di mandare la mail. Si ribadisce che il centro di soccorso è in attesa di ricevere come richiesto questi famosi report. Perché non li mandate? Io voglio sapere perché non li mandano. Ce li avevano a bordo. e cosa fa Open? Alza l'asticella. Quindi il report, il modulino da compilare le cinque righe? No, non te lo mando perché le cinque righe sono troppe. Ok. I moduli che già avevi? No. Silenzio. E a questo punto c'è una telefonata di Minciacchi a bordo, è un medico, sempre di IRMCC, che dice, ma noi vi vogliamo aiutare. E loro rispondono, non accettiamo così. No, no, no. Noi li vogliamo fare scendere tutti? risponde Minciacchi. Va bene. Scrivetemi un pezzettino di carta in cui scrivete che c'è un pericolo di vita e li facciamo scendere subito. Sapete cosa risponde testualmente Open? Oh, ma che domande sono? Queste domande le fai ad altri? Noi? Noi non te l'attestiamo questo. Ma volevano scendere. Il povero Minciacchi si sente rispondere che non dovevano nemmeno dire che c'erano dei pericoli di vita. Avete fatto queste domande ad altre navi? No, no, no. Noi sollecitiamo lo sbarco come diciamo noi. Ed allora? Come mai? Come mai? Come mai? Il 15 vedono che scendono. E il 16 cambiano procedura. L'Italia in ginocchio dice mandami qualsiasi cosa. Niente. 17, 18, 19. Cosa aspetta? Open. Ho cercato, 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 cercato di capire. Nella sequenza delle mail, che vi potrei aiutare perché per fortuna c'è proprio una sequenza di mail, ho trovato. Mentre l'Italia, che aveva chiesto questa famosa mail, il Re inoltro, attendeva, 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 cosa fa la signora Montes? Decide di non rispondere all'Italia e di scrivere alle ore 13.06 del giorno 17 al dottor Vella, procuratore di Agrigento, dicendo io sono Annabel Montes, ci sono condizioni sanitarie e psicologiche delle persone a bordo ripetutamente discritte e sottoposte alle istituzioni preposte. Guarda che tutto questo può generare stress, eccetera, eccetera. Non dicendo che l'Italia era in ginocchio e che gli diceva mandami questi report e scendi e scrivi al procuratore omettendo di dire che l'Italia sta aspettando te, Open. era stato sì presentato un esposto, era stato sì presentato un esposto, ma Montes chiera nessuno. Ma Montes perché non rispondi all'Italia? Perché non rispondi? E perché dici al procuratore che sta in difficoltà senza dire che non stai rispondendo all'Italia? Ci stiamo avviando alla parte finale, vede questi fogli sono come la sabbia della clessidra, quindi resta poca sabbia. Ultima parte. Il 18 agosto si sveglia il governo spagnolo e concede il post a Open e lo concede inizialmente ad Al-Ghaziraz. In realtà io ho trovato la traduzione ordina, ordina, credo che sia ordina la parola. succede qualcosa di strano e poi ho capito che il diario di bordo dovete vedere però il diario di bordo nella versione originale, se no questo non si capirà dopo il diario di bordo si trasforma in una memoria difensiva in cui si contesta la Spagna pensate, quindi abbiamo Open che è entrato in Italia, è entrata in Italia, è entrata in territorio italiano non risponde all'Italia ha il post in Spagna la Spagna gli dice vieni e la risposta è per noi è obbligatorio seguire le indicazioni dell'Italia cioè quell'Italia alla quale non stavano rispondendo come se l'Italia la stesse obbligando a stare lì poi sostengono che c'è una sentenza TAR che obbliga lo sbarco totalmente falso e poi parlano di un'indagine della procura ancora nessuno sapeva del sequestro e poi concludono dicendo noi intanto non siamo sotto la vostra giurisdizione ma italiana quindi è l'Italia che comanda non vuoi gli dice alla Spagna questi prima si aprono con Malta poi con l'Italia e poi con la Spagna e poi concludono è pericoloso per la salute andare così lontano e qui si è aperto un tema perché? perché si è detto ma in effetti i migranti sono stanchi perché vengono da un lunghissimo viaggio probabilmente è corretto quello che si sta dicendo cioè è corretto quando il comandante dice i migranti come fanno a sopportare questo viaggio sarebbe corretto se non fosse che Keros dice tutto il contrario di tutto perché dice tuttavia però i migranti possono andare in Spagna purché con un'altra nave non con me perché? si scopre in un'altra pagina di diario perché lui ritiene che se va in Spagna si prende delle sanzioni e c'ha delle responsabilità e quindi la verità è che quando dice non ce la fanno i migranti andare in realtà si contraddice perché subito dopo afferma se qualcuno li porta ce la fanno con me no però ma non solo a questo punto la Spagna dice visto che ti sembra questo porto lontano vieni a Palma di Mallorca cosa risponde Keros? no 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 nemmeno a Palma di Mallorca sono disponibile solo se prendete gli altri migranti quindi non accetta nemmeno Palma di Mallorca viene proposto a questo punto il trasbordo dei migranti in un'altra nave parzialmente che poi li trasferirà in Spagna e viene mandata una mail e questa è un'altra mail particolare la Spagna insiste con Open e dice noi vi diamo quello che volete quello che volete diteci cosa volete perché il viaggio sia sicuro e noi lo facciamo vi offriamo anche un post più vicino ditecelo risposta di Open non ho niente da dirvi perché non ha mai risposto alla Spagna cioè la Spagna gli dice venite dimmi come ti posso aiutare la stessa cosa che è avvenuta l'Italia non rispondo in particolare Madrid chiede i dati delle persone a bordo continua a chiedere alla Spagna di dare almeno quei dati così si accelera e la risposta di Open stiamo parlando di Open che dice che c'era una situazione a bordo disastrosa la Spagna dice almeno dammi i dati e vedo di accelerare questi sbarchi buonanotte invieremo i dati domattina mai inviati i dati mai inviati i dati quindi la Spagna offre a Gesine offre Palma di Mallorca offre aiuti chiede dati prima risponde Open e poi stop cade nel silenzio quindi la Spagna non convince Open ci prova l'Italia in riferimento alla nota riguardante il porto di Algeciras designato dal governo spagnolo per questa unità navale questa MRC è disponibile accompagnare Open Arms con un mezzo navale italiano fino al porto spagnolo sopraindicato tramite questa unità navale ci impegniamo a trasferire parte degli attuali migranti al momento a bordo della vostra nave chiedeteci tutto quanto è necessario per un viaggio in sicurezza cibo acqua carburante chiedeteci pure come risponde Open nessuna risposta è ancora l'Italia buonasera per quanto riguarda l'ultima mail questo MRCC ancora in attesa è in attesa è in attesa di sapere quali sono le vostre esigenze per effettuare il trasferimento quali sono i carcerieri chiedono ai sequestrati come possiamo aiutarvi ancora una volta e i sequestrati ancora una volta non rispondono passano dei giorni c'è un ennesimo sollecito si dice diteci diteci perché non rispondete risposta di Open ora siamo molto impegnati non vi possiamo rispondere allora comincia a essere un po' particolare questo tipo di non risposta perché erano anche qui troppo impegnati alla Spagna hanno detto buonanotte a noi in Italia dicono troppo impegnati domani domani l'indomani non hanno mandato nulla 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 e infatti i MRCC ancora una volta in ginocchio buongiorno signore per quanto riguarda l'ultima mail MRCC ancora in attesa di conoscere le vostre esigenze meno male che questi scrivevano se no non avremmo traccio e perde le staffe persino Toninelli Toninelli ecco quelli che sostengono che il governo aveva isolato Salvini un paese che consente all'NNG di hissare la propria bandiera su una nave poi non può girarsi dall'altra parte auspico che il comandante non si opponga poi ci siamo messi a disposizione con la guardia costiera per accompagnare open arms in Spagna per offrire un supporto tecnico e per trasportare parte dei migranti la ONG ha incredibilmente rifiutato con un atteggiamento che fa sospettare ci sia malafede da parte loro a questo punto facciamo un ulteriore passo avanti siamo disponibili a portare noi con la nostra guardia costiera nel porto iberico che ci verrà indicato tutti i migranti poi qui è una foto in cui lui sta alla scrivania e dice sono stato io a risolvere tutto grazie alle nostre interlocuzioni la Spagna ha annunciato l'invio di una propria nave limitare bene buona notizia sono auspico del governo spagnolo con cui ho interloquito direttamente risponda al nostro appello ed allora abbiamo signor presidente e signor del tribunale delle prove inconfutabili che l'Italia il 15 attraverso la guerra costiera dava la possibilità con la mera parola disagio di scendere abbiamo la prova che dal 16 in poi si alzò la sticella e non si rispose più all'Italia e alla Spagna che qualcosa cambia è sicuro io non sono in grado di ipotizzare cosa si stesse aspettando di preciso non lo so non lo so so che qualcuno manda mail alle procure e so che c'è qualcosa che non va nel diario di bordo perché siccome io sono sempre abituata a guardare non le carte ma gli originali delle carte è stato difficilissimo l'udienza preliminare riuscire a ottenere questo famoso diario di bordo tradotto e se prendete l'originale del diario di bordo vedrete che dal giorno 16 in poi c'è un resoconto totalmente diverso da quelli fatti precedentemente ci sono intere pagine in cui si parla di norme del posto spagnolo emergono una serie di questioni giuridiche tecniche e non vengono però annotate una serie di mail rilevantissime molte di quelle di cui vi ho parlato ad esempio quella in cui l'Italia era disponibile seduta stante a fare scendere i migranti col re in oltro di una vecchia mail così come non si fa cenno alla mail dell'alpm ed allora controllando l'originale emerge che è successa una cosa cioè dal giorno 15 al 21 non si scrisse il diario di bordo perché? perché erano convinti ovviamente che erano arrivati il giorno 21 il giorno 21 ricominciano a scrivere il diario di bordo però compilano anche i giorni che non erano stati compilati e questo si vede perché il giorno 16 in realtà è ricalcato col numero 21 e siccome il diario credo lo sappiate è divisa la pagina del diario in due parti c'è una parte del diario che annota gli eventi un'altra parte che ovviamente annota che cosa la velocità la corrente i venti ebbene nella pagina del 16 sono annotati e poi cancellati i dati della velocità dei venti e delle correnti del 21 per cui era stata compilata questa pagina il 21 con ciò che era accaduto il 16 cioè sostanzialmente ex post si è compilato questo diario di bordo e questo è evidentissimo alterando perché il numero 21 è sopra il numero 16 e non si poteva il giorno 16 agosto conoscere il vento le correnti e la velocità del giorno 21 agosto quindi è stato ricostruito tutto ex post ex post probabilmente per ragioni di ricostruire meglio non lo so io non voglio ipotizzare le ragioni il fatto sta che quella parte del diario di bordo non attesta giorno per giorno quello che è successo perché mancano tutte queste cose e perché non è ipotizzabile che uno sappia il giorno 16 agosto la velocità di open arms che avrebbe avuto il giorno 21 agosto io presidente adesso concludo poi darò la parola molto brevemente all'avvocato Colotti mi permetta di ringraziare l'avvocato Carta e l'avvocato Manna perché il lavoro che è stato fatto è frutto di un lavoro scrupoloso e voglio solo concludere con due parole nell'agosto del 2019 il ministro Salvini sì stava combattendo una battaglia certamente non contro i migranti gli atti di questo processo documentano che i migranti sono stati assistiti tutelati aiutati che la guardia costiera si è messa in ginocchio Salvini stava combattendo una battaglia contro chi confonde le pretese e i diritti ma usare a sproposito il termine diritto è molto pericoloso innanzitutto per i diritti non esiste il diritto di bighellonare con i migranti a bordo per due settimane pur di non ottemperare un divieto non esiste il diritto di rifiutare le indicazioni degli stati delle zone di ricerca e soccorso dove avvengono i trasbordi non esiste il diritto di scegliere dove quando come fare sbarcare i migranti e quali migranti non esiste il diritto di ignorare le offerte di aiuto né quelle di rifiutare ogni soluzione i confini e lo dico convintamente contrariamente a quanto qualcuno pensa lungi dall'essere strumenti di discriminazione sono lo scudo della pace se chiunque potesse entrare in Italia senza regole e senza controlli nel nostro paese regnerebbe il caos e la violenza io ho ricordato in questo processo a prescindere dall'esito delle pagine che io reputo nere nere soprattutto quelle in cui l'Italia in ginocchio chiede indicazioni da open e open rifiuta così come quelle in cui la Spagna chiede come può offrire aiuto e la Spagna e la open risponde buonanotte una buonanotte sarcastica perché non manderà niente alla Spagna infine la terza pagina che reputo nera non è una pagina ma è il video che ho ricordato perché ecco perché parlavo di processo politico in questo senso perché io non capisco proprio perché non facevano sbarcare i migranti e però la risposta ce la dà Oscar Camps sono felici non perché sbarcano ma perché è caduto il ministro dell'interno Salvini è caduto per queste ragioni chiedo la soluzione perché il fatto non sussiste grazie presidente deposito una memoria grazie grazie l'avvocato cancelliere ha preso noto delle conclusioni dell'avvocato buongiorno è un breve intervento prende la parola avvocato Colotti in difesa del senatore Matteo Saldini affronterò un solo tema il tema della giurisdizione dello Stato di bandiera la difesa dei confini non solo quelli fisici territoriali della nazione ma anche quelli del diritto perché che sono altrettanto come sarà chiarito tangibili e reali alla luce anche della requisitoria dei pubblici ministeri che ho ascoltato con molto interesse pare essere appunto questo il titolo di questo processo la difesa la difesa dei confini ritengo però che sui confini tracciati dalla normativa internazionale sia necessario fare chiarezza sia necessario fare chiarezza focalizzando l'attenzione su quelli che sono i trattati esistenti e la normativa vigente il quadro normativo è stato tracciato dalla pubblica accusa e su questo intendo focalizzare l'attenzione nel dettaglio perché i trattati di riferimento sono le convenzioni UNCLOS SAR e la convenzione SOLAS in particolare ne ha parlato l'avvocato Buongiorno sono state poi elaborate delle linee guida nel 2004 per il trattamento delle persone salvate in mare che costituiscono degli emendamenti tanto alla convenzione SAR quanto alla convenzione SOLAS al fine di renderle più efficaci adattarli anche ai fenomeni che rispetto al 1976 via via si stavano verificando e dunque sono proprio quelle linee guida alla risoluzione MSC 167 del maggio 2004 nello specifico al paragrafo 6.7 che prevedono quando uno Stato debba assumere il coordinamento delle operazioni di salvataggio e ci sono due criteri il criterio dello Stato della zona SAR entro cui l'evento si verifica oppure il criterio dello Stato di primo contatto allora quando si chiama ad intervenire non lo Stato della zona SAR dove interviene l'evento ma lo Stato che per prima è stato contattato e assume il coordinamento dell'evento lo Stato di primo contatto prevedono quelle stesse linee guida resta comunque responsabile soltanto finché non trasferisce poi la responsabilità del coordinamento allo Stato competente per territorio cioè lo Stato della zona SAR entro cui l'evento si è verificato e quindi è una responsabilità primaria quella dello Stato della zona SAR entro cui si è verificato l'evento e questo ce lo chiarisce poi il paragrafo 2.5 delle stesse linee guida la responsabilità di fornire un luogo sicuro o di garantire che venga fornito un luogo sicuro ricade sul governo responsabile della regione SAR in cui i sopravvissuti sono stati recuperati e quindi questo è il quadro normativo c'è una responsabilità primaria Stato della zona SAR entro cui si è avvenuto si è realizzato l'evento oppure lo Stato che assume il coordinamento perché è stato contattato finché non trasferisca gli stessi quindi si fa carico dell'onere del coordinamento finché non trasferisca poi allo Stato della zona SAR competente l'onere gli oneri del coordinamento questi sono i limiti entro cui sorgono gli obblighi e entro cui si sostanzia la responsabilità dello Stato di coordinamento e anche infine di fornire un luogo sicuro quelle linee guida però per quanto poi nel 2004 abbiano comunque subito degli aggiornamenti non si occupano del caso specifico non comprendono il caso specifico in cui una nave privata quale quella dell'ONG effetti di propria iniziativa senza alcun coordinamento il salvataggio e allora in quel caso chi è lo Stato responsabile certamente rimane la competenza primaria dello Stato territorialmente competente quindi del governo dell'area SAR entro cui l'evento si verifica ma vi è se quello Stato non risponde come può accadere qual è lo Stato di primo contatto può il soggetto privato scegliere autonomamente di contattare uno Stato sulla base della propria valutazione un qualsiasi Stato oppure vi è un legame diciamo ontologico preesistente che individua lo Stato di primo contatto in quel caso intervengono le norme generali che sono le norme della convenzione UNCLOS articolo 92 94 98 che stabiliscono che la giurisdizione è dello Stato di bandiera quindi in quel caso lo Stato di primo contatto è lo Stato di bandiera in virtù di una relazione appunto preesistente e ontologica non può il soggetto privato scegliere autonomamente a quale Stato rivolgersi senza considerare gli oneri gli obblighi del proprio Stato di bandiera i trattati evidentemente contengono solo obblighi per gli Stati da questo punto di vista non si può consentire a un soggetto privato di addossare ad libitum quegli obblighi a uno Stato senza pensare di poter limitare così la sua sovranità è evidente dunque che devono essere le norme di diritto esistenti a risolvere queste eventuali vuoti di tutela anche delle linee guida e dei trattati allora l'ufficio di procura ha fatto l'esempio beh ma se lo Stato batte bandiera panamense e lo Stato della Regione SAR non risponde allora in quel caso si è privi di tutela in realtà no in realtà no perché tanto le convenzioni esistenti nello specifico anche la convenzione UNCLOS non significa che solo perché lo Stato panamense batte quella bandiera debba essere e quindi da considerarsi Stato di primo contatto sia lo Stato di primo contatto ad avere l'obbligo di indicare presso le proprie coste un luogo sicuro non è richiesto questo ma certamente è richiesto il coordinamento assume il coordinamento lo Stato sulla base dei propri canali diplomatici è lo Stato che verifica se contattare lo Stato della Regione SAR entro cui è avvenuto l'evento per trasferirgli la competenza oppure uno Stato limitrofo ma certamente non è rimessa al soggetto privato la possibilità di decidere quale Stato debba assumere il coordinamento dell'evento tanto più quale Stato debba individuare il luogo sicuro parlando della nozione di luogo sicuro l'ho anticipato anche l'avvocato Buongiorno e faccio solo un flash vorrei chiarire che nella normativa internazionale esistente non vi è alcun riferimento che possa collegare il luogo sicuro ad un criterio di vicinanza fisica il luogo sicuro non è il luogo più vicino non sta scritto da nessuna parte che il luogo sicuro debba essere quello più vicino rispetto al quale l'evento si è realizzato vi è un paragrafo dell'articolo 3.1.9 della Convenzione SAR che fa riferimento alla circostanza per cui la nave soccorretrice intervenuta occasionalmente nell'ambito di un evento SAR mentre svolgeva la propria attività istituzionale possa riprendere il prima possibile la propria navigazione ordinaria e dunque possa realizzare questo evento SAR apportando una minima deviazione alla propria rotta quindi c'è questo riferimento ma questo riferimento non implica ad ogni modo una vicinanza del place of safety al luogo più vicino rispetto al quale si è realizzato l'evento perché questa disposizione attiene evidentemente a navi ad imbarcazioni che svolgono la propria attività istituzionale quale navi mercantili navi da crociera petroliere quindi hanno già una rotta prestabilita non si applica evidentemente all'ONG che rotta prestabilita non hanno in conclusione la nave privata che intervenga in autonomia deve considerare come stato di bandiera deve considerare come stato di primo contatto lo stato di bandiera contattare certamente e far sì che lo stato presso cui si è realizzato l'evento assume il coordinamento ma in tal caso nel caso di mancata risposta oppure nel caso in cui ritenga che non sia non ci siano le condizioni adatte per poter far assumere il coordinamento ad esempio alla Libia perché ritiene che la Libia non possa designare un luogo sicuro avrebbe dovuto certamente contattare lo stato di bandiera e dallo stato di bandiera attendere istruzioni si tratta di un'interpretazione che è perfettamente al dato normativo al dato letterale delle disposizioni delle convenzioni internazionali che ho poco anzi richiamato e che costituisce già giurisprudenza nell'ambito del nostro ordinamento perché al di là del caso Gregoretti sentenza gruppe di Catania che è agli atti agli atti avete anche altri provvedimenti che nello specifico si occupano di casi che io definisco speculari rispetto a quello che ci occupa perché riguardano proprio salvataggi di ONG nel caso della Gregoretti evidentemente non era una ONG Tribunale di Roma collegio per i reati ministeriali il caso era il caso della nave Alan Kurdi anche in quel caso era stato iscritto un procedimento a carico dell'allora ministro Matteo Salvini Alan Kurdi aprile 2019 ONG battente bandiera bandiera straniera e in questo caso è chiarissimo il Tribunale dei Ministri presso il Tribunale di Roma nella parte in cui si legge lo avete agli atti è stata la nota produzione documentale della difesa all'udienza del 23 ottobre 2021 il documento numero 1 della nostra nota di produzione seguendo alla lettera il dettato della Convenzione scrive il Tribunale di Roma lo stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio e quindi lo stato di primo contatto è lo stato di bandiera ma ce lo dice anche un'altra pronuncia anche questa speculare anche questa riguardava il salvataggio di una ONG in zona sar libica quindi esattamente le stesse circostanze verificatisi nel caso che ci occupa il Tribunale di Catania dicevo sezione reati ministeriali in quel caso era la Sea Watch 3 gennaio 2019 anche lì procedimento a carico dell'allora ministro dell'interno e anche qui il Tribunale di Catania nel decreto di archiviazione è chiarissimo secondo la normativa internazionale era l'Olanda la Sea Watch batte bandiera olandese che doveva individuare in alternativa alla Libia quale è stato competente per le Acquesar il POS quale è stato di primo contatto quindi è evidente che anche secondo la giurisprudenza che si è occupata di casi assolutamente identici non esiste la giurisdizione dello Stato italiano per casi del genere per eventi intervenuti in Acquesar libiche piuttosto che maltesi da parte di ONG che senza coordinamento intervengono scelgono di non rivolgersi o comunque non assume il coordinamento lo Stato della Regione Sar competente entro cui è intervenuto l'evento non esiste competenza da parte dell'Italia in virtù del fatto che il comandante della nave privata decida di sua sponte di rivolgersi alle autorità italiane non lo prevede la normativa internazionale e se dal piano dogmatico occorre passare al piano probatorio io evidentemente non ribadirò perché non ce n'è bisogno è stata chiarissima l'avvocato buongiorno però devo accennare i tre eventi i tre eventi ricordando le caratteristiche diciamo essenziali rispetto al tema che sto affrontando i tre eventi sono avvenuti i primi due in zona SAR libica interventi avvenuti in autonomia da parte di Open Arms battente bandiera spagnola il terzo evento è avvenuto in Acque Sar Maltesi Malta ha assunto il coordinamento è stato rifiutato il coordinamento da parte della ONG Open Arms non indugio evidentemente sulle circostanze sulle ragioni del rifiuto sulle mail ne ha parlato lungamente l'avvocato buongiorno quello che è certo è che però in tutti e tre i casi l'Italia non aveva alcuna competenza al riguardo non ha mai assunto il coordinamento e di conseguenza alla luce della normativa internazionale non vi era giurisdizione da parte dello Stato dello Stato italiano queste circostanze poi ce le chiarisce attenzione una piccola digressione il fatto che l'Italia non avesse alcuna competenza in materia dei tre eventi ce lo chiariscono anche le note del Ministero degli Esteri che vengono inoltrate all'Ambasciata Spagnola e sono anche queste agli atti il 2 agosto subito dopo i primi due eventi e poi anche il 9 agosto poco prima del terzo evento perché lo Stato italiano nella figura del Ministero degli Esteri scrive subito all'Ambasciata Spagnola e chiarisce ho avuto notizia di questi eventi SAR realizzati da una ONG battente bandiera iberica tu Spagna devi assumere il coordinamento tu Spagna devi fartene carico nel caso in cui il governo dell'area SAR non intervenga perché io Italia non ho alcuna giurisdizione le note sono due sono del 2 agosto e del 9 agosto 2019 è chiarissima poi quella del 9 agosto in cui ribadisce questo concetto le autorità spagnole si prendano carico dell'individuazione di un porto sicuro di sbarco per le persone a bordo dell'Open Arms la Spagna fino al 18 non risponde sostanzialmente però questo per chiarire che non è solo l'interpretazione soggettiva del Ministero dell'Interno in virtù di alcuni diciamo così atti che esteriorizzavano la politica governativa in materia di migrazione sono le normative internazionali a chiarire che l'Italia non aveva alcuna competenza alcuna giurisdizione rispetto agli eventi SAR realizzati una digressione mi sia consentita perché proprio in quei giorni anzi il giorno prima dell'invio della seconda nota da parte del Ministero degli Esteri il Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo facente funzione il Procuratore sempre per il Tribunale per i minorenni di Palermo scrivono congiuntamente una missiva indirizzata tanto all'allora Ministro dell'Interno quanto al Ministro della Difesa che è al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ossia i tre Ministri che avevano sottiscritto quel divieto di ingresso e invitano insomma i tre Ministri a chiarire quali misure intendessero porre in essere a tutela dei minori che erano a bordo di Open Arms perché evidentemente anche il Tribunale dei Minori era stato notiziato di questi eventi SAR ora nel corso della requisitoria la risposta poi fornita perché poi risponde evidentemente solo il Ministro dell'Interno al Tribunale dei Minorenni al Procuratore dei Minorenni è arrivata poi soltanto il giorno il giorno 14 ora è chiaro che perché Salvini il Ministro dell'Interno Salvini avrebbe dovuto rispondere prima l'8 agosto il 9 agosto quando era evidente anche secondo l'interpretazione del Ministro degli Esteri l'Italia non aveva alcuna giurisdizione era mi spiace dirlo ma quella missiva pretendeva una risposta inesigibile impossibile da parte del Ministro dell'Interno Salvini sulla sorte dei minori sulla nave rispetto ad eventi in cui l'Italia non aveva alcuna competenza alcuna giurisdizione tra l'altro poi il Ministro nella sua risposta la fornisce quando ancora la Open Arms il giorno 14 ancora non era nelle acque nazionali e fornisce la sua risposta ribadendo tra l'altro concetti giuridici che sono della specie di quelli che io adesso sto illustrando ossia dice la giurisdizione non è dell'Italia e della Spagna non vedo perché io ho meglio non vedo perché lo Stato che rappresento debba farsi carico di questa questione ora tornando invece a quanto riferito rispetto appunto alla questione della giurisdizione questa stessa interpretazione che è comune voglio dire la stessa interpretazione del Ministro dell'Interno e quella del Ministero degli Esteri ce la fornisce anche il comandante Liardo nel corso del dibattimento perché gli viene chiesto ma scusi sulla base della normativa applicabile era competente l'Italia rispetto al primo evento risponde chiaramente no rispetto al secondo evento no rispetto al terzo evento no è chiarissimo Liardo nel corso dell'udienza del 17 dicembre 2021 io invito insomma a rileggere quelle trascrizioni non starò qui a rileggerle in maniera chiara per non appesantire ulteriormente il discorso ad ogni modo voglio ribadire che Liardo il comandante Liardo rispetto all'assenza alcuna di competenze di giurisdizione dell'Italia risponde anche a precisa domanda del pubblico ministero allorquando viene fornito ancora una volta l'esempio del caso in cui lo stato di bandiera possa essere uno stato lontano rispetto all'evento quale è lo stato panamense poco importa può essere lo stato più lontano possibile rispetto a dove si è realizzato l'evento quello stato se la nave che effettua l'evento batte la sua bandiera non può disinteressarsene e disinteressarsene non significa che debba per forza individuare lui stesso il posto presso le sue coste ma il dovere di prendere lui i contatti con gli stati non può sonnecchiare lasciare che sia il soggetto privato a scegliere dove poter dove poter indirizzare indirizzare la rotta e a chi chiedere il post ma di ciò ne è consapevole anche anche l'accusa ne è consapevole l'accusa di questa diciamo chiarezza anche della normativa internazionale che esclude in alcun modo la competenza per i tre eventi del tipo di quelli verificatesi da parte dell'Italia tant'è che è costretta a ricorrere a dell'effizio a un'interpretazione estensiva della normativa internazionale ma anche a una vera e propria creazione di un evento che noi nella nostra memoria abbiamo nella memoria difensiva è stato definito fantasma perché dico questo perché sui tre eventi è chiaro alla luce di quanto riferito alla luce di quanto riferito scrimesso per iscritto dal ministero degli esteri alla luce di quanto anche esposto dal comandante Gliardo non vi è alcuna competenza non vi è alcuna giurisdizione da parte dell'Italia allora l'accusa fa sorgere la responsabilità e la giurisdizione dell'Italia sulla base di due presupposti il decreto del Tar è un evento fantasma un quarto evento allora sul provvedimento del Tar farò soltanto alcuni alcuni accenni perché l'avvocato Buongiorno ha chiarito era un provvedimento cautelare inaudito altera parte non ha in alcun modo annullato gli effetti del divieto se non nella misura in cui ha previsto un obbligo di assistenza come effettivamente è stato fornito la creazione di un quarto evento perché l'accusa riprendendo gli argomenti il tribunale dei ministri poi in istruttoria non è stato tanto affrontato questo tema probabilmente Liardo l'avrebbe stroncato sul nascere se gli fosse stato chiesto ad ogni modo fa riferimento alla sorgere di un quarto evento SAR datandolo 14 agosto allorché la nave open arms si avvicinava anzi entrava nelle acque nazionali anche se c'è un errore che ha documentato chiaramente l'avvocato buongiorno perché l'ingresso nelle acque è il 15 agosto e le 1.30 fatto sta che fa sorgere questo quarto evento diciamo a cavallo tra 14 e 15 agosto allora quando la nave ONG entrava in acque nazionali per ripararsi da condizioni meteo secondo la pubblica accusa il peggioramento delle condizioni meteo è presupposto di un nuovo diverso autonomo ulteriore evento SAR quarto evento SAR e sul quarto evento SAR dicono per i primi tre potete anche aver ragione non sostiste la giurisdizione italiana ma per il quarto evento siete voi responsabili e quindi attraverso questa creazione perché mi sembra a tutti gli effetti una costruzione di un fatto non corrispondente a quelle che poi sono le normative perché l'autorità preposta a individuare classificare e qualificare gli eventi SAR è solo una non è la procura della repubblica non è il tribunale dei ministri è i mrcc e la guardia costiera assegna anche dei numeri come si fa con i procedimenti penali quindi non c'è il numero di rgnr per fare un paragone con i procedimenti penali ma c'è un numero di evento la guardia costiera nel caso di specie per i casi che ci occupa ha individuato solo tre eventi SAR gli eventi SAR di cui ci stiamo occupando sono tre non ce n'è un quarto utilizzato ex novo per far sì che l'Italia si possa caricare anche della responsabilità dei tre eventi che evidentemente non possono essere di competenza italiana è una forzatura assoluta ma è una forzatura assoluta non soltanto da un punto di vista diciamo così di competenza perché appunto è la guardia costiera e mrcc a dover stabilire se classificare e qualificare un evento come SAR o meno ma è una forzatura a mio avviso frutto anche di una lettura erronea dei fatti uno perché di per sé il peggioramento delle condizioni meteomarine da solo non è sufficiente a far sì che un evento possa qualificarsi come TAR e come SAR due perché il peggioramento delle condizioni meteomarine dal diario di bordo è avvenuto quando la nave si trovava in acque SAR Maltesi è avvenuto già la sera del 14 agosto la nave appunto entra in acque SAR italiane il 15 agosto all'1.30 e quindi vi era già il peggioramento delle condizioni meteomarine e ad ogni modo se si vuole considerare il peggioramento delle condizioni meteomarine come evento SAR occorre considerare che da subito l'Italia ha concesso il ridosso due ore dopo l'ingresso delle acque nazionali e ha fornito tutta l'esistenza tutta l'assistenza possibile alla nave nave anche qui qui ritengo che occorra sgombrare il campo da un equivoco ve lo dico a onor del vero perché questo perché si è detto nel corso dell'istruttura dibattimentale la nave era classificata per 19 persone non poteva contenere i 147 migranti che conteneva nel momento in cui fa ingresso nelle acque italiane attenzione quella è una classificazione burocratica non è la capienza la nave a livello di capienza poteva contenere circa 300 persone ce lo chiarisce lo stesso Oscar Camps in dibattimento in virtù della stazza di oltre 22 tonnellate quella nave sul ponte poteva contenere 300 persone quindi neppure può richiamarsi la stazza le condizioni della nave e soprattutto la sua classificazione per ritenere che nel momento in cui entra in Italia si configura un quarto evento SAR e vi sia necessità dell'Italia di fornire assistenza l'Italia fornisce assistenza in virtù del dettato del TAR stop non perché si realizzi un quarto evento SAR e non perché in virtù di questo quarto evento SAR fantasma l'Italia abbia giurisdizione abbia giurisdizione al riguardo e quindi vado a concludere vado a concludere se vogliamo prendendo in prestito anche le parole che sono state utilizzate nella requisitoria perché così come il Ministro dell'Interno ha il dovere di difendere i reali confini della nazione la pubblica accusa sì il dovere di difendere i confini del diritto ma i confini del diritto reali quelli che sono tracciati dalla normativa esistente non quelli che possono essere estesi oltre il dato letterale dei trattati e delle convenzioni sulla base magari di sensibilità personale oppure di opinabili richiami al diritto naturale perché mi sembra di aver ascoltato anche alcuni richiami al diritto naturale all'odissea non c'è bisogno ci sono le convenzioni e quei confini tra l'altro sono stati ben richiamati senza equivoco alcuno da decisioni che ormai costituiscono giurisprudenza nazionale e che si è formata sul tema che ci occupa lo ricordo ancora una volta Alan Kurdi Tribunale di Roma Sea Watch 3 Tribunale di Catania che sono fatti specie identiche a quelle rispetto al quale si sta celebrando questo dibattimento e la Gregoretti che non è una fatti specie identica ma è analoga e per molti aspetti ha chiarito anche la portata degli obblighi internazionali ed è per queste ragioni dunque che tenendo presente il dovere della difesa dei confini tanto della nazione quanto quelli del diritto che deve essere riconosciuta l'assoluta correttezza della condotta dell'allora Ministro dell'Interno in esecuzione di una legittima linea politica pienamente conforme ai trattati internazionali grazie grazie l'Avvocato quindi concludo associandosi alle richieste dell'Avvocato Buongiorno il processo va rinviato per eventuali repliche e per la decisione tenuto conto dei concomitanti impegni del collegio dei colleghi che lo compongono e delle difficoltà di trovare l'Aula dobbiamo andare all'udienza del 20 dicembre come orario vi chiamo quello delle 9.30 e seguenti l'Aula è questa B3 mi pare B3 comunque quest'Aula la stessa Aula di oggi l'udienza è tolta una buona giornata a tutti grazie